Unione di KiloCal. Vai su KiloCalProgram.it. Trovi tante amiche e preziosi consigli. Scopri subito il tuo programma per perdere peso. KiloCal ama la tua linea. Da Pulfarma in farmacia. Stanco? Stressata? M-G-K-V M-G-K-V se ricarica plus. Il tonico energetico senza zuccheri. M-G-K-V se ricarica plus. Fai i visti energia. Le venti buone erbe. Elisir depurativo ambrosiano. Combatte la stitichezza. Da Pulfarma in farmacia. Buona visione da ErboPlanet. Integrazione naturale di alta qualità. Buona visione da ErboPlanet. Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento in diretta di Box Salute. Come avete potuto vedere dal titolo, l'argomento di questa puntata è candida, micosi e infezioni miste in gastroenterologia e ginecologia. Abbiamo il consueto appuntamento con due ospiti che voi amate moltissimo e anch'io ovviamente. Abbiamo con noi il dottore Gabriele Prinzi. Buonasera e ben ritornato. Ciao Nicole, buonasera e buonasera ai nostri telespettatori e telespettatrici. La presento velocemente, chirurgo d'urgenza, gastroenterologo, l'ideatore, insieme alla sua collega che poi l'IVM, che salutiamo. Buonasera e ringraziamo anche lei di essere qui. Grazie a voi per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Dietista e nutrizionista e voi siete gli autori del fenomeno Ascolta la tua pancia. Ci vediamo una volta al mese. Com'è andato questo periodo? Tutto a posto? Sempre di corsa. Sempre di corsa. So che lei è arrivato da Palermo con l'aereo. C'è stata una conferenza proprio ieri sera. Ieri sera a Bologna davanti a una sessantina di colleghi, medici di famiglia e gastroenterologi veri. Anzi, se mi permetti una piccola correzione. Non sono gastroenterologo ma citando il mio amico e collega Luca Speciani, sono castroenterologo. Cioè? Qua mi sa che dovrei invitare me e Luca per saperlo, perché la battuta sul castro protettore l'ho presa da uno dei libri di Luca. È stato il primo libro che ho letto suo nel 2016-2017, prima ancora che ci incontrassimo. Bene, abbiamo capito quindi qual è l'opinione del dottore in merito agli inibitori di pompa protonica. Quindi se non lo sapete qual è la sua idea, potete andarvi a vedere tutte le vecchie puntate che abbiamo detto più volte. No, ma paradossalmente ieri c'erano parecchi specialisti, gastroenterologi e medici di famiglia. Io sono semplicemente un amplificatore delle linee guida italiane. Cito sempre le linee guida del 2017 e del 2021, le ultime fatte da sei società scientifiche italiane, i quali parlano, tranne in caso di patologie gravi, di deprescrivere il farmaco dopo sei settimane di utilizzo. Quando noi poi magari nei nostri ambulatori incontriamo persone che lo prendono da 20-25 anni. Ed è un disastro. Cioè l'inibitore di pompa protonica è un farmaco meraviglioso. Ci ha tolto la possibilità, ovvero la sfiga, di avere una perforazione da uccera gastrica. Però sono farmaci per utilizzo per breve periodo. Magari incominciamo a parlare proprio di questo perché spegnendo la produzione di acido gastrico, oltre che ovviamente salvaguardare lo stomaco, loro tolgono lo stomaco la capacità di desertificazione batterica. Che fino a qualche anno fa, diciamo fino alla fine degli anni 70, eravamo tutti convinti che lo stomaco fosse sterile. In effetti all'inizio del 2000, e dopo quindi la scoperta del Helicobatter, e facendo delle analisi di metagenomica abbiamo scoperto che là dentro c'è un mondo fatto di almeno 128 specie. Quando però, per necessità terapeutiche, per un periodo spegniamo questa acidità gastrica, dobbiamo renderci conto che mettiamo noi stessi, lo stomaco dei nostri pazienti, nel pericolo di essere invasi da batteri enterici. Quando lo fai per 25 anni non c'è più un dubbio, è una certezza che ci sia una invasione dello stomaco. Quindi ritorniamo alla battuta, castroenterologo. È da qui che nasce appunto questo termine che è anche molto simpatico, poi lo ricordiamo, il suo humor è anche un po' siciliano, visto che lei viene di Palermo, e quindi riesce a portarlo anche qua al nord. Allora chiedo anche ovviamente alla dottoressa Emma, anche per lei tutto bene, poi domani tra l'altro sarete ad un altro convegno, giusto? Esatto, saremo a trovare dei colleghi a Fortunago, un altro evento, sempre in ambito di ginecologia, quindi restiamo assolutamente in tema. Bene, dai, allora ci concentriamo sull'argomento di questa puntata, vi ricordo che siamo in diretta, potete interagire con noi, al numero che vedete in sovraimpressione, che è lo 0291 22 0098, potete mandare sia degli audio vocali, che noi faremo ascoltare e i nostri esperti vi risponderanno, oppure potete mandare appunto dei messaggi su WhatsApp, o potete chiamare il numero che vi sto dicendo, e il numero per WhatsApp è lo 0372 59 31 22, mentre lo 0291 22 0098 è il numero al quale risponderà la nostra segretaria e verrete ricontattati e voi lasciate i vostri recapiti. Vi ricordo di scrivere sempre il vostro nome e da dove ci contattate, così almeno sappiamo da dove arrivano le chiamate. Allora adesso, prima, visto che ho menzionato il fenomeno di Ascolta la tua pancia, facciamo vedere il libro, i libri, perché poi sono il primo e le ricette. Sono dei libri molto importanti, quindi io vi consiglio di una facile lettura, sia per persone semplici come noi, ma anche per medici e professionisti del settore della salute. Non so se possiamo fare un piccolo spoiler. Sì, dai, fatemelo almeno. Siamo in fase di revisione del terzo libro della trilogia, che è però totalmente dedicato ai bambini. Oh, fantastico. E quindi è un... La mamma, sono molto contenta, l'aspetto. Per ascoltare la pancia dei bambini, per imparare ad ascoltarla meglio. Anche le nonne, perché ultimamente anche le nonne ci stanno chiamando proprio per i danni che a volte fanno i figli con i loro nipoti, e quindi vorrebbero degli strumenti. Anche perché purtroppo certe patologie che una volta erano, lo ricordiamo sempre, di una certa età e venivano più avanti col tempo degli anni, oggi purtroppo voi state vedendo anche tanti bambini. Esatto. Ma questa è una tendenza... Ne parlavamo nei primi sei capitoli del libro delle ricette. È una tendenza che vediamo dagli anni 70. Arrivato a un certo punto, quello che si è visto è stata un'esplosione di allergie, di riniti, di problemi che non si capiva perché colpissero soprattutto i bambini. E quindi sono venute fuori tre teorie. La prima è quella dell'igiene, cioè che l'eccesso di gene o l'eccesso di antibiotici o l'eccesso di farmaci che servono a evitare le infezioni non permettessero al nostro sistema immunitario di essere alfabetizzato nelle battaglie. Successivamente è arrivata la teoria dei vecchi amici, ovvero che l'eccesso di antibiotici ha modulato quelli che erano le vecchie famiglie di microrganismi che ci eseguivano da centinaia di migliaia di anni. E la terza è l'ultima, quella che è portata avanti dal professore Alessio Vasano, è la teoria del microbiota. Ringrazio intanto la regia per questa immagine, lo dicevo ieri, è stata l'immagine con cui è aperto questo convegno ed è una cosa che magari a noi medici non è chiarissima e soprattutto non è chiara a chi ci ascolta e ai pazienti, è che su questo pianeta noi siamo ospiti. Non esiste una parte del pianeta che non sia sporca, ricoperta da microrganismi, non esiste una parte di noi, non esiste una zona sterile del corpo, stanno facendo dei lavori terrificanti anche sulla presenza di genoma batterico nel cervello, che noi abbiamo sempre considerato un santuario e soprattutto quello che ci sarebbe da ricordare, e sono i biologi che hanno portato la rivoluzione negli ultimi 30-40 anni, è che le nostre cellule derivano dai microrganismi e che all'interno delle nostre cellule, quelli che noi chiamiamo organuli, come per esempio i mitocondri fondamentali per l'energia, sono a loro volta dei microrganismi. Quindi è un peccato che questa lezione che ha rivoluzionato la medicina negli ultimi 40 anni la conoscano alcuni, come noi che giriamo costantemente per fare conferenze o facciamo webinar, però che poi ci sia un'altra parte della popolazione e anche una piccola parte di professionisti che pensano che il microbiota sia una moda, quando invece la quantità di lavori scientifici pubblicati su PubMed, la più grossa biblioteca mondiale di medicina, i numeri sono schizzati negli ultimi anni, e paradossalmente non c'è patologia in cui non venga considerato uno squilibrio di questi microrganismi che ci portiamo dentro. Dalla bocca, dalla rima buccale alla rima anale, su una superficie grande quanto un attico e superattico, stiamo parlando di oltre 250 metri quadrati, una quantità di microrganismi enorme di cui il 70% si trova nel colon, che a tutti gli effetti potremmo chiamarla una camera fermentativa o una fogna, volendo, e nel momento in cui questi microrganismi che sono nel colon o sono in eccesso o sono squilibrati e fregano il posto a quelli che sono i batteri buoni, che ci dovrebbero accompagnare dalla nascita su questo pianeta, là sono guai. E soprattutto sono guai quando questi squilibri, oramai presenti, ripeto, in tutte le patologie, quelle più frequenti, quando questi squilibri non vengono neanche sospettati, o non vengono ricercati e arriva la solita frase, è tutt'ansia. Scambio di mano, ci si dà la mano. Oramai, è così, c'è davvero... Ma è concesso, cioè, farsi, darsi la mano oppure c'è rischio di contaminazione batterica? No, ma sì, è normale che ci contaminiamo, ma tu considera, se la pelle è costantemente ricoperta da microrganismi, quando tocchi il tavolo, tu non stai toccando il tavolo, non è la tua pelle che la tocca. È come se ci fosse un sottilissimo strato di microrganismi che toccano il sottilissimo strato di microrganismi sul tavolo. E quando mangiamo, o quando prendiamo dei farmaci, non dimentichiamocelo, noi siamo convinti che prendere un farmaco significa avere la sostanza al 100% biodisponibile per il nostro corpo. Però sono loro che fanno un lavoro di metabolizzazione. La loro presenza, o la loro essenza, o il loro squilibrio, per esempio nel caso dell'aspirina, possono fare la differenza tra la quantità giusta di farmaco o un eccesso di azione dell'aspirina. Ah sì, cioè? In che senso? Che possono amplificare, perché i microrganismi hanno tutta una batteria di enzimi che possono o amplificare l'effetto farmacologico, oppure addirittura ridurlo, oppure addirittura renderlo inefficace. E questo è proprio dovuto al fatto che anche loro hanno tutto un complesso corredo enzimatico che a volte riesce anche in attivare l'antibiotico. L'antibiotico è resistenza, è proprio una manifestazione di questa attività enzimatica che viene tra l'altro modificata nel tempo, perché anche loro hanno la capacità di modificarsi epigeneticamente. Quindi un microrganismo che inizialmente non è resistente, arriva all'antibiotico, impara a metabolizzarlo, e una volta che basta solo uno che possa imparare a metabolizzarlo, passa poi questa capacità genetica, epigenetica, a tutti i suoi successori. Ai vicini, anche. E non solo, tramite i trasposomi, tramite i filamenti di RNA, rilasciano nell'interstizio questa parte genetica che è in grado di metabolizzare l'antibiotico e viene recepita non solo da quelli della stessa specie, ma anche da quelli di specie diverse. Ed è per questo che a volte poi c'è la stessa resistenza anche in Klebsiella, potrebbe essere un protos, potrebbe essere una scaricchia coli, guarda caso, perché loro comunicano. Davvero molto interessante. Allora, veniamo un pochino all'argomento che abbiamo scelto per questa puntata. Allora, così come avviene con la gastrite e gli inibitori di pompa protonica che si usano farmaci per mesi e anni senza risolvere il problema, la stessa cosa avviene molto spesso e purtroppo sempre più spesso con le micosi, con la candida, con diverse infezioni, sia dell'apparato gastrodigerente che quello ginecologico. Perché questo? Cioè, cosa sta succedendo? Ci potete spiegare un po' qual è la vostra visione in merito? Quello che ci arriva in ambulatorio sono donne che arrivano da noi per i problemi di tipo gastroenterologico, ovviamente, quindi prevalenza magari di stipsi oppure di alvo alternato, il famoso intestino irritabile, e quindi noi magari lavoriamo su quello. Poi in anamnesi ci raccontano, perché poi chiediamo, episodi di cissite, candidosi, ah sì certo, per anni. E come è stata trattata? Con ovuli, cissiti, con antibiotico, a volte senza neanche fare l'urocultura, direttamente l'antibiotico il medico prescriveva senza neanche valutare che tipo di microrganismo c'era. A volte c'erano anche delle colonizzazioni asintomatiche, cioè significa magari le persone facevano l'urocultura, le donne facevano l'urocultura positiva, trattate anche in assenza di sintomi. Ovviamente tutto questo causa degli squilibri, anche a livello non solo urogenitale, ma intestinale. E questo effettivamente è quello che noi rileviamo e ragioniamo sul fatto di come i professionisti trattano solo la parte fisicamente locale senza ragionare sull'ecosistema, che di fatto è tutto collegato. Se dovessimo prendere un pezzettino della dimenticata o defunta medicina interna, poco fa ho citato 250 metri quadrati di estensione dalla rima buccale alla rima anale. Potremmo parlare degli 88 metri quadrati del polmone, potremmo parlare dei centimetri quadrati della vagina, potremmo parlare dell'estensione dei reni, delle vie urinare. Ognuno di queste è una superficie esposta al mondo e quindi è naturalmente una superficie che entra in contatto con i microrganismi del mondo. Ognuno di questi organi in qualche maniera ha un meccanismo per abbatterne la carica, perché non solo sono presenti su di noi, ma si duplicano. Per esempio, quante donne all'ascolto hanno avuto un'esperienza, o loro o qualche loro amica, che magari in una giornata di lavoro o la spiaggia hanno trattenuto, si sono trattenute dal fare la pipì e poi il giorno dopo, la sera stessa, hanno avuto un episodio di cistite. Perché? Non buttando fuori la pipì, la pipì pulisce la parte interna degli ureteri, la pipì pulisce la parte interna della vescica buttandoli fuori. Quindi il trattenersi può portare a delle infezioni. Aggiungiamo che nella costipazione, oramai una manifestazione che noi vediamo con temibile frequenza, non buttando fuori quel 70% di microrganismi, quei microrganismi hanno due possibilità, o salgono verso l'alto, oppure anche in una situazione di costipazione grave. Sono piccoli, possono muoversi, possono uscire, e la vagina è subito là dietro. Le situazioni, come stai vedendo in questa grafica, sono tante le cose che noi andiamo a ricercare nella nostra anamnesi, perché a partire dal tipo di nascita, per esempio i parti cesarei, o dal tipo di allattamento, quelle persone che non vengono allattate, o quelle infezioni dei primissimi mesi della vita, questi sono ad altissimo rischio di uno squilibrio del microbiota, praticamente immediatamente postnatale. e questo era una delle cose che abbiamo scritto. Ci sono mille giorni in cui puoi sfasciare il microbiota, a partire dai nove mesi di gravidanza, fino ai due anni, due anni e mezzo di vita. In quella maniera è come se tu predisponessi il nostro sistema di difesa, i nostri microbi simbionti che ci amano e campeggiano su di noi, nel momento in cui loro non campeggiano su di noi, e quello spazio viene lasciato a disposizione del primo che capita. Nel momento in cui noi non abbiamo un'occupazione fisica di quello spazio, quello spazio può essere preso da qualcun altro, quindi il nostro sistema immunitario, che è immediatamente sotto questo tappeto di microrganismi, sa riconoscere i miei dagli estranei e quando non sono miei, non è contento, si arrabbia, combatte, infiamma, per cui la cistite, la gastrite, l'esofagite, l'arrinite, dovunque tu vedi ite, non è una maledizione del signore, è un'infiammazione, punto e basta, è un'attivazione del sistema immunitario contro qualcuno. Se quindi l'unica cosa che noi facciamo è andare a guardare il singolo pezzo, solo il cardias, solo la gola, solo l'antrogastrico, solo la vagina, in quel momento noi non stiamo guardando tutto quello del paziente in cui c'è questa correlazione e avendo la stragrande maggioranza dei microrganismi nell'intestino, abbiamo nell'intestino la stragrande maggioranza del sistema immunitario che ci difende. Da là al contatto col cervello è un attimo, per cui l'asse cervello-intestino, intestino-cervello, ma anche l'asse intestino-polmone, l'asse intestino-rene, l'asse intestino-osso, qua dovremmo fare una serata solo a parlare di osteoporosi e di come quello che mangiamo, i microrganismi che abbiamo dentro di noi, come intervengono per favorire l'osteoporosi, lasciando perdere la tragedia della farina raffinata, forse è la prima causa dell'osteoporosi e ce lo troviamo qui. Ora, quello che vedi qui, ma anche il paese dove sono nato, il tipo di alimentazione che ha avuto mia mamma prima della gravidanza, se faccio esercizio fisico, se sono stressato, ognuno di questi va visto non come causa a solo, ma dobbiamo vederli all'interno di un quadro in cui la causalità è circolare, non lineare. E quindi la causalità, cioè le cause delle varie micosi e della candina in particolare, quali sono? Faccio un piccolo accenno, poi passerò, se me lo permetti, la parola a Livia. Noi abbiamo, sin dalla pancia di mamma, abbiamo un contatto con dei microrganismi, cioè la comunità in questo momento è molto orientata a riconoscere che il sacco vitellino non è sterile, che l'utero non è sterile, che il cordono ombelicale non è sterile e che in qualche maniera noi già là dentro entriamo in contatto con dei microrganismi. Ma se nasciamo, oramai sono pochi fortunati, se nasciamo da parto vaginale e veniamo lattati normalmente, una parte di lieviti e di candida di mamma arrivano anche a noi, servono per dei nostri processi di fermentazione, di digestione, quindi un pochettino di candida ce l'abbiamo. Il problema quando è? Che su questa grossa superficie di 250 metri quadrati piena di microrganismi misti, quando lanci una bomba atomica selettiva un'innocente penicillina. Penicillina che ti ricorderai delle puntate che abbiamo fatto sull'origano, proviene dal nome della famiglia delle muffe penicillia. Quindi noi stiamo buttando una bomba atomica realizzata dalle candide su un tappeto di microrganismi misti. Questa bomba atomica è sicuramente attiva e fa piazza pulita di alcuni batteri, non di tutti, e non solo di quelli patogeni, ma lo spazio lasciato libero da questi campeggiatori distrutti dalla bomba atomica viene occupata da quei microrganismi che sono antibiotico resistenti o quelli che hanno resistito oppure le candide sono fisiologicamente resistenti perché è da loro che viene prodotto questa roba. Quindi quando raccogliamo le anamnesi chiediamo sempre se è stato allattato, se no, hai avuto nei primi due o tre anni riniti, tonsilliti, otiti, gastroenteriti, quelle patologie per cui è normale che un medico per atto di prudenza prescrive un antibiotico. Però siamo nella fascia di quei mille giorni, giusto? E allora se poi ci sono tonsilliti recidivanti e poi arrivano le scistiti recidivanti, la domanda di quando è arrivata la candida spunta automaticamente. Quando è arrivata la candida? E allora te lo racconto. Vorrei sapere se una persona la candida se non ha effetti evidenti per una donna in vagina, ecco, diciamo. Per esempio il classico la candidosi a livello orale. Il mughetto, no? Nei bambini. Il famoso mughetto, ma anche nell'adulto. Ah, c'è anche nell'adulto. Assolutamente sì. Voi lo trovate spesso? In ospedale, per esempio, un classico e dopo una terapia antibiotica perché magari appunto viene ricoverato e quindi si fa o la profilassi o comunque si dà l'antibiotico perché c'è un'infezione in atto, a tutti poi può venire il problema della candida infatti poi danno sempre il farmaco antifungino per fare gli sciacqui e non pensano più che altro a prescindere dal fatto che funziona ma se tu hai una candida orale comunque di origine intestinale e si continua a lavorare sul locale e non andando a vedere l'origine, la fonte. Quindi la bocca, la pelle, la vagina piuttosto che l'ano perché magari nei maschi te ne rendi conto da certi pruriti notturni che sono costanti quello è una manifestazione periferica di qualcosa che è dentro quindi il dubbio deve venire l'ipotesi la devi avere ed esistono dei laboratori d'analisi sparsi in Italia non tutti ovviamente i quali sono capaci di mettere le feci in cottura non semplicemente di guardare la presenza della candida perché poi tu guardi le feci a fresco in un laboratorio classico non vedi nulla noi abbiamo dei riferimenti per esempio quindi se noi facciamo un esame semplice solo a guardare non la vedi di coprocoltura comunque di esame coprocoltura sì non guarda le candide aspetta perché la coprocoltura in ospedale di solito guarda tre massimo quattro patogeni batterici bisogna chiedere una coprocoltura allargata la candida l'ultima volta che mi è capitato per un paziente che aveva la candida urinari quindi andiamo a cercare l'intestinale mi hanno detto immunodepressa no allora non lo facciamo solo negli immunodepressi non cercare la candida intestinale in ospedale parliamo sono in equidia quindi non lo so se saranno divertire o baggi e ospedale dagli eridi non lo so però di fatto nella coprocoltura classica cercano le scarichi a coli cercano la salmonella cercano la scighella forse la jersinia basta a volte ci vogliono tra le 18 e le 24 ore di cottura per vedere una candida quindi nelle fece a fresco non la vedi non è una è proprio una ricerca particolare da andare a fare ma è suggestivo che una persona che abbia avuto parecchi antibiotici quindi diciamo che a casa anche la persona più attenta se dovesse guardare le feci non la vede la candida no non si vede no se ne può fare magari dei sintomi perché la candida può dare per esempio diarrea ma può dare anche sipsi la candida può dare anche depressione può dare voglia di dolce può dare comunque prurito a livello intimo la mente annebbiata è un segno brain fog però quelli sono anche i sintomi anche di altre situazioni che noi vediamo comunque con gli alimenti perché il nickel ne abbiamo parlato anche il glutine può dare brain fog quindi è davvero complessa la valutazione che appunto è chiaro che quello che noi facciamo anche l'abbiamo scritto nei libri ma l'abbiamo fatto nei corsi di formazione quello che stressiamo tanto i nostri diciamo chiamiamo gli alleati sul territorio è di fare quelle domande che ti permettono di capire cioè prima di fare un esame fai un milione di domande quella è la raccolta anamnestica nel secondo nel terzo capitolo di ascoltare la tua pancia spiegavo che il medico deve fare l'investigatore non deve cancellare le tracce di un delitto cioè se c'è un delitto il tenente Colombo non è che entra e pulisce il sangue dal pavimento rimette a posto le cose chiama la scientifica che misura tutto quando si dà un farmaco sintomatico senza andare a cercare una buona urinocultura una tampone vaginale o una coprocultura stai cancellando le tracce quindi è necessario fare un esame ad hoc per la ricerca della candida in laboratori specializzati ma esistono tanti tipi di candida non ce n'è solo una e questo può comportare l'aggravamento della patologia a seconda del tipo di candida che noi ospitiamo nel nostro corpo e non c'è solo la candida ci sono altre componenti fungine è un classico è capitato in diverse pazienti che dopo infezioni ripetute dove magari hanno fatto più terapie antibiotiche sotto covid comunque l'abbiamo visto tra le infezioni e le sovrainfezioni iniziano poi i problemi intestinali è capitato con una collega che aveva due tipologie di candida diverse la cruze e la tropicalis e poi aveva anche l'altro fungino Sacromicious cerevisia forse aveva esatto comunque ne aveva due Sacromicious cerevisia e dove si trovava questo? non è il baulardi non è il baulardi che troviamo nei banchi delle nostre farmacie il cerevisia sembra essere particolarmente collegato lo si va a cercare sotto forma di anticorpo all'IBD alle malattie infiammatorie croniche intestinali però la cosa divertente ovvero la cosa tragica è che spesso ci dimentichiamo che gli anticorpi contro il Sacromicious cerevisia vanno assomigliando agli anticorpi contro la candida è per questo che nelle rettocolite ulcerose o quanto piuttosto nel Crohn andare a cercare se c'è una candida è sempre comunque opportuno secondo voi in quante persone c'è la candida? diciamo patogena ecco ecco perché la candida ce l'abbiamo tutti esatto anzi in realtà la candida fisiologicamente nella forma commensale è anche protettiva proprio perché esattamente come il penicillum produce batteriocine produce micocine contro altre tipologie di funghi è vero che produce anche serotonina? no la candida no anzi in realtà la candida quando diventa però cattiva allora può produrre delle sostanze che inducono depressione tant'è che anche una tendenza comunque all'ansio all'umore comunque più depresso è anche uno dei sintomi comunque della candidosi a parte che vabbè anche solo il fastidio ti viene comunque perché ovviamente è un disagio per noi donne in particolare che è non indifferente penso che la maggior parte di chi ci sta ascoltando o la maggior parte delle pazienti hanno un'idea di averla avuta almeno una volta o due volte da giovani e quindi è quello il segno che noi andiamo a ricercare chiedendoci perché arrivano da noi che non stanno bene noi non vediamo pazienti che stanno bene che vengono in prevenzione e quindi mettiamo la ricerca della candida se hanno certi segni o certi sintomi allora adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria però diamo diciamo già una notizia un pochino positiva che si può risolvere ovvio non con gli antimicotici però con dei protocolli a base anche non so di oli essenziali dopo lo spieghiamo bene a base di oli essenziali e poi oli essenziali e alcune piante ovviamente l'alimentazione perché quella è la base parleremo anche di alimentazione se mangiamo un sacco di zuccheri la candida va a nozze e anche le altre micose la candida adora fermentare caschiamo sempre lei adora fermentare gli dai da mangiare figurati se va via con gli zuccheri poi bene brevissima pausa pubblicitaria intanto vi ringrazio perché ci state mandando già dei messaggi poi arriviamo e cominciamo a rispondervi a tra poco Dalla maestria dei laboratori Erboplanet nasce la gamma degli oli essenziali HP oli essenziali microincapsulati sotto forma di capsule gastro resistenti grazie alla tecnologia lento rilascio i principi attivi vegetali vengono assimilati in maniera stabile nel tempo oli essenziali microincapsulati prodotti a base di principi naturali per il benessere gastrointestinale Erboplanet filosofia antica e tecniche moderne azienda italiana di integratori ad alta qualità porta a casa tua i benefici della Ioniterapia da quando ho scoperto la Ioniterapia la mia vita è cambiata il benessere parte dalle cellule Ioniflex energia vitale grazie all'invio di ioni salutari direttamente alle cellule Ioniflex energia vitale per una difesa naturale contro dolori infiammazioni allergie virus e molto altro per riscoprire il benessere e fare un pieno di energia per tutti anche per Fido Ioniflex energia vitale visitate il sito www.ioniflex.com resterete sorpresi le 20 buone erbe elisir depurativo ambrosiano combatte la stitichezza da Pulfarma in farmacia alla Metalmark sono iniziati i saldi nei reparti abbigliamento calzature intimo e pelletteria super saldi con sconti fino al 60% su tutti i prodotti nessun marchio escluso approfitta ora della promozione troverai le migliori marche uomo donna e bambino con sconti reali fino al 60% i veri saldi sono alla Metalmark in tutti i reparti abbigliamento calzature intimo e pelletteria super saldi ti aspettiamo in viale Adua 36 orzi nuovi Brescia aloe più mirra uguale mirral mirral uguale più immunità e più efficacia mirral l'arma vincente per potenziare le tue difese immunitarie lo abbiamo studiato assieme a ricercatori svizzeri e dolandesi ed usato nelle migliori cliniche è attivo il servizio di videoconsulti olistici di Natur puoi prenotarlo sul sito natur.it oppure telefonando al numero in sovraimpressione casella macchine agricole dal 1954 a Carpaneto Piacentino da oltre 60 anni leader nella produzione di impianti per l'irrigazione a pioggia quali irrigatori semoventi e motopompe punto di riferimento nello spandimento ombelicale dei reflui importatore ufficiale di Wervat il semovente olandese ideale per una gestione efficiente di liquami e di gestati un team di oltre 150 persone tutte con un unico obiettivo la soddisfazione totale del cliente casella macchine agricole l'attenzione all'innovazione è il nostro presente realizzarla è il nostro futuro l'inquinamento atmosferico ed elettromagnetico i farmaci il fumo e lo stress assediano la nostra salute e se ci fosse una molecola sicura da utilizzare come prevenzione nell'organismo sano e come cura nel corpo malato questa molecola è l'ozono in CDE potrete avere le migliori terapie sistemiche basate sull'ozono per contrastare in modo efficace i processi degenerativi che minano il nostro benessere clinica dermoestetica da sempre al tuo fianco per la tua salute e la bellezza l'intestino è tuo secondo cervello mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata probioticamente gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale un nuovo proprio TK mio rafforza le tue difese immunitarie da Pulpharma in farmacia stanco? stressata? MGKV MGKV ricarica plus il tonico energetico senza zuccheri MGKV ricarica plus fai i vis di energia metti al centro del tuo problema un'eccellenza dottor Saverio Ferrari parabita tutte le novità in campo dentale impianti zigomatici e impianti iux da ossei di ultima generazione implantologia a carico immediato senza dolore e in tempi brevi risolviamo i vostri problemi possibilità di stabilizzare le vostre protesi offriamo tutta la nostra professionalità preventivi senza impegno numero verde gratuito 800 325 315 i nostri centri sono a Brescia e a Massa dottor Saverio Ferrari parabita accendi il tuo sorriso i campi elettromagnetici sono sempre con noi non li vediamo non hanno odore sapore non fanno rumore ma ci sono la buona notizia è che ci si può proteggere da questo inquinamento e preservare così la nostra salute idea scudo da oltre 25 anni opera nel settore delle schermature elettromagnetiche ha brevettato e certificato tessuti e capi di abbigliamento schermanti per l'utilizzo domestico o professionale e per le persone elettrosensibili contattaci troveremo insieme la soluzione migliore per te idea scudo la soluzione all'elettrosmog esiste pancia gonfia flatulenza meteorismo che fastidio quell'aria nell'intestino trio carbone migliora il benessere intestinale e oggi in flaconcini trio carbone gas control da Pulfarma in farmacia le 20 buone erbe elisir depurativo ambrosiano combatte la stitichezza da Pulfarma in farmacia bene tornati in studio abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria vi ricordo che siamo in diretta potete interagire con noi con lo 0291 22 0098 se volete chiamare questo numero i medici e gli ospiti che sono qua vi risponderanno oppure potete interagire con noi mandandoci appunto messaggi allo 0372 59 31 22 accettiamo sia gli audio whatsapp che i messaggi devo dire che stanno già arrivando le prime le prime vostre richieste magari ne leggo già una no? e poi dopo ci adentriamo ancora nel discorso così cominciamo a rispondere c'era una cosa interessante buongiorno siamo alla sera in diretta comunque va bene accettiamo sono Patrizia da Milano ultime settimane prurito genitali esterni da esami di inizio febbraio risultano come valori fuori range pH 7.5 cellule epiteliali presenti 27 peso specifico 1,026 pensavo essere in menopausa ma stamattina mi è comparso il ciclo dopo 5 mesi può essere correlato sto usando una crema per il prurito il mio medico non mi vede fino a martedì cioè settimana prossima domanda sono stati rilevati lattobacilli lattobacilli oppure floramista perché cosa capita spesso nelle nostre pazienti a parte che hanno un pH così alto l'attobacilli non credo perché le lattobacilli hanno la caratteristica di colonizzare fisiologicamente la vagina e produttore acido lattico che mantiene un pH intorno ai 3-4 che è giusto che sia con un pH così alto è probabile che magari non ci sono patogeni ma ci sia una flora mista e già questo è un indice di disbiosi perché vuol dire che quella vagina è terra di nessuno quindi il primo abbassamento del sistema immunitario qualcuno dal colon passa potrebbe essere scarichia coli potrebbe essere qualcos'altro dovrebbe essere candida spesso la stipsi è una manifestazione che accompagna comunque queste problematiche e quindi poi si manifesta la sintomatologia vera e propria i lattobacilli sono i protettori dello spazio vaginale e mangiando alcuni particolari carboidrati prodotti dalle cellule vaginali producendo l'acido lattico rendono l'ambiente vaginale talmente acido da essere diciamo un ambiente inospitale per i microrganismi esterni sia virali che batterici che fungini quindi un pH di 7,5 non ho idea come si ci sia arrivati è abbastanza preoccupante è una porta aperta quando lasci la porta di casa aperta può entrare chiunque dall'amico al postino al ladro quindi il pH della vagina di quanto deve essere? è 3,5 più o meno 3,5-4 al massimo diciamo che una vagina sana non dovrebbe superare il 4 di pH e si può misurare con che cosa? con la cartina torna sole? come le sì ma quando si fa comunque il tampone vaginale sono tutti esami che comunque che viene fuori misurano il pH misurano appunto la presenza di patogeni io chiedo sempre alla ricerca anche l'atto bacillare perché non sempre a volte nel tampone ti dicono se sono presenti o meno e se c'è in questa piccola depandanza anatomica che è la vagina una carenza di lattobacilli dobbiamo andare a vedere il caos che ci sta sicuramente a monte cioè in quella grande camera fermentativa o grande fogna che è il colon se mancano i lattobacilli allora questo è un segno di infiammazione in atto essendo loro protettori in qualche maniera della mucosa e alfabetizzatori del sistema immunitario la loro mancanza può essere diciamo sia un segno di infiammazione sia una causa di infiammazione ecco la candida prevalentemente nell'intestino dove la troviamo? ma la candida diciamo dove può fare danni? in ambienti diversi abbiamo effetti diversi cioè sintomi diversi la maggior parte delle volte non la troviamo nell'esame delle feci quindi comunque colonizza il colon in particolare anche l'ultimo tratto anche perché quando si va a fare un'analisi delle feci o del microbiota comunque noi analizziamo l'ultimo tratto se la regia mette una c'era una slide con i tipi di disbiosi più frequenti che andiamo a cercare perché nella letteratura mondiale disbiosi collegate alla candida quindi anche sì c'è una delle disbiosi collegate alla candida che fa riferimento al piccolo intestino forse era quella quella dopo ok se guardi questi sono i tipi di disbiosi con nome e cognome quelli più conosciuti e studiati al mondo in alto a destra SIFO vuol dire small intestine funginal overgrowth sovracrescita fungina del piccolo intestino per piccolo intestino intendiamo dal duodeno quindi subito dopo lo stomaco fino alla valvole idiocecale lì è più facile che la candida possa trovare spazio perché nel colon in un colon funzionante quindi con i lattobacilli che stimolano la produzione di muco abbiamo uno spessore di muco che tiene separata questa grossa quantità di microorganismi rispetto alla mucosa di sotto della quale c'è il sistema immunitario invece se andiamo a guardare il piccolo intestino il duodeno e il digiuno magari tornando nell'immagine prima Katia riesce a vedere quell'immagine se vedi lì il duodeno e il digiuno sono quelli che hanno lo spessore di muco più sottile di tutto il tratto digerente superato il digiuno questo spessore va a aumentare fino ad essere massimo nel colon quindi minore è lo spessore del muco più facilmente le cellule all'interno di un'infiammazione o smettono di produrlo o lasciano spazio ai microorganismi ed è lì che dobbiamo andare a cercare la candida ovvio che chi si occupa di idrocolonterapia spesso durante le sedute di idrocolon direttamente vede dei gomitoli o comunque vede qualcosa nelle feci che escono fuori si vede che cosa il bianco il bianco che è lo stesso bianco che spesso capita nelle vaginosi comunque di avere delle queste perdite quindi dottore ma scusi ma lei che operava in ospedale i casi d'urgenza quando apriva mai considerata la candida quello che vedevamo non si vedeva non si vedeva se uno apre l'intestino non si vede se c'è la candida quindi significa che devi andare a tagliare un intestino per motivi diciamo non di necessità noi a volte avevamo a che fare proprio con la cacca nelle pance con situazioni esplosive e quindi non andavamo a cercare la candida cercavamo di salvare la vita del paziente però per quello che mi ricordo io non c'è mai stata una considerazione della candida e trattando di chirurgia d'urgenza addominale erano due o tre gli antibiotici che di default venivano impiegati nei pazienti e quindi candida assicurata è altamente probabile ma tenendo conto che nessuno l'ha mai cercata quello che si vede da un lavoro che a volte porta in giro nei convegni del 2020 analizzando una serie di pazienti sottoposti a asportazione del colon non spieghiamo qua perché veniva asportato il colon però per esempio l'asportazione del colon spesso si vede a livello profilattico nelle malattie infiammatorie croniche dell'intestino come per esempio la retocolite nel momento in cui togli il colon c'è un aumento significativo della frequenza di SIBO sovracrescita batterica e di SIFO sovracrescita fungina del piccolo intestino ma se non le vai a cercare non è facile vedere i segni perché nel momento in cui togli un organo comunque dove passa il chirurgo l'anatomia non è più quella quindi la funzione del corpo anche se sembra perfetta non è realmente perfetta è tutto quello che rappresenta un'alterazione dei meccanismi di clearing quindi l'asportazione di parte dello stomaco o gli interventi bariatrici per esempio dove per motivi di necessità per fare dimagrire le persone gli modifichi l'anatomia e là diciamo che altamente è probabile che ci sia un asibo è probabile che ci sia un asifo ma quindi se la candida nasce nell'intestino e poi viaggia si sposta all'interno del corpo dove può arrivare? cioè se vai a intaccare la vagina è presumibilmente in una parte dell'intestino non so è nel colon discendente è più facile allora più facile ripeto che sia ci arriva i polmoni arriva la gola passa dallo stomaco attenzione potrebbe non arrivare perché arriva anche nel cervello no la candida sì ma non è detto che ci arrivi dall'intestino cioè? quanti dei nostri piccoli pazienti vengono trattati perché hanno l'asma sin da piccoli con per necessità quintalate di cortisone se vai a cercare nel sito del CDC di Atlanta che rappresenta l'autorità mondiale per quanto riguarda le infezioni due farmaci sono considerati certi dal CDC ad Atlanta di generare una candidosi sistemica uno di questi è il cortisone l'altro sono gli anticorpi monoclonali che vengono utilizzati per esempio nella psoriasi o nella rettocolitucerosa gli anti-TNF-alfa questo è scritto sulle pagine del CDC di Atlanta quindi tenendo conto che noi abbiamo dimenticato l'uso della meravigliosa N-aceticisteina non so se posso fare il nome commerciale però il NAC il vecchio fluimucilla noi abbiamo dimenticato l'abbiamo veramente tanto usato durante il covid ma perché l'abbiamo usato non penso viva della nostra pubblicità stiamo dando un'informazione utile però se da un lato è un potentissimo antiossidante dall'altro è un mucolitico se nel muco anzi nel biofilm loro prosperano e riescono a proteggersi dall'antibiotico o dall'antimicotico è inutile trattare una bronchite o una polmonite con antibiotico e cortisone perché l'antibiotico ammazza i batteri ma potrebbe favorire la candida il cortisone blocca il funzionamento del nostro sistema immunitario allora perché non inserire il fluimucil o l'N-aceticisteina in tutte le pneumopatie o nella terapia nell'aerosolterapia perché a casa mia diciamo si pensa che se gli vai a rompere il posto in cui si nascondono se gli cambi l'ambiente in cui vivono ok loro non riescono più a vivere lì ma con l'antibiotico e il cortisone il biofilm non viene scalfito e questo noi lo sappiamo dagli anni 70 da quando abbiamo incominciato lo studio del biofilm qua c'è una diapositiva Katia ti ringrazio e l'abbiamo scoperto negli anni 70 sebbene Van Leeuwenwok un mercante di tessuti lo sapeva dalla fine del 600 li ha visti nei microscopi ma noi lo sappiamo da 3,4 miliardi di anni queste sono le datazioni dei reperti fossili in cui questi microscopi cesserini da cui noi deriviamo si inchiudono in questa specie di enclave che rappresenta il 90% di una struttura che dura come il corallo anzi dura e resistente come la placca dentaria perché è la forma di biofilm che tutti noi possiamo vedere e abbiamo bisogno di un dentista abbiamo bisogno di una pulizia dentale non lo puoi fare a casa guardando questa slide tu vedi come ci sono a sinistra con la scritta forma plantonica sono microorganismi singoli sono dei single a un certo punto però quando si mettono insieme se hanno la capacità di produrre biofilm producono delle specie di grattacieli a un certo punto questi grattacieli si rompono loro escono fuori e continuano a fare infezioni e si spostano dov'è che agisce l'antibiotico? solo sulle forme planktoniche ma non dentro il biofilm ed è questo che dagli anni 70 che viene portata avanti si nascondono lì sono protetti è come se fosse proprio uno scudo sono delle glicoproteine che di fatto bloccano qualsiasi tipologia di antibiotico qualsiasi tipologia anche di farmaco è proprio come se fosse una difesa molto serrata il lac scioglie quel biofilm? si perché scioglie anche il muco e il muco è della stessa struttura del biofilm però se è facile arrivare nel polmone perché ci arrivi con un banale e facile da gestire aerosol quando si tratta di un tubo digerente lungo 8 metri aperto al libro sono 250 metri quadrati non è così semplice andare a sciogliere il biofilm e non è neanche prendendo quintalate di NAC non è neanche safe non è neanche una prudente andarla a sciogliere perché in quel biofilm non ci sono solo i cattivi quindi quindi la logica è se noi abbiamo la contezza di uno squilibrio e lo possiamo misurare allora il NAC fa parte della nostra strategia terapeutica così come per esempio la cinnamaldeide della cannella la cinnamaldeide della cannella e la menta e l'origano hanno dimostrato in vitro e in parte in vivo di poter sciogliere il biofilm il biofilm degli escherichiacoli o gli escherichiacoli che chi ha avuto almeno una volta nella vita come donna una infezione urinaria viene sciotta dall'origano su questo i lavori scientifici ci sono dottore mi scusi ma come faccio a sapere se ho la candida sistemica muori attualmente è davvero difficile comunque debellare del terrore degli ospedali nella fine del 2022 se non ricordo male tramite candida per essere sistemica devi essere immunodepresso perché vuol dire che comunque ha passato tutte le difese però per esempio l'oncologico è immunodepresso quando si fa la chemioterapia però è difficile che faccia un antibiotico sicuramente se c'è un immunodepresso che fa anche l'antibiotico è fortemente a rischio perché se si passa la barriera e la canne diventa sistemica effettivamente può essere un grosso problema quindi sistemica dove va? dovunque sangue polmoni intestino cervello perché non c'è semplicemente la candida sistemica poi c'è l'apertura di quelle membrane di quelle porte che chiudono i nostri santuari come quello cerebrale quello che è certo e che è stato dimostrato già alla fine del 2022 è che pazienti una fetta consistente dei pazienti deceduti in ospedale da slash per covid sono deceduti non da e per covid ma perché erano intubati o erano in terapia intensiva e quando sono intubati in terapia intensiva ovviamente sono più predisposti a prendere le infezioni all'infezione segue l'antibiotico se quelle infezioni sono da batteri antibiotico resistenti il paziente perisce nessuno ovviamente può andare a fare una review di tutte le cartelle cliniche di tutti i decessi che ci sono stati ma l'ex direttore un ex dirigente dell'istituto superiore di sanità l'hanno intervistato al report su Rai3 parlava di potenzialmente un 40% dei deceduti in ospedale sono numeri impressionanti cioè non sono piccoli numeri e già in altre puntate abbiamo ricordato che dal 2017 almeno l'Italia è fanalino di coda a livello mondiale sia per l'attenzione all'antibiotico resistenza sia per la quantità per la frequenza con cui incontriamo questi microrganismi ecco perché da tanti anni stiamo portando avanti il concetto che se tu li sai identificare perché con le coproculture possiamo vedere sia i microrganismi che le candide e sapere che cosa le ferisce ma di sicuro gli oli essenziali hanno dimostrato sia sui batteri che sulle candide di essere efficaci quindi un'arma c'è i farmaci micotici stanno diventando sempre più così come c'è la resistenza per gli antibiotici idem con gli antimicotici sono pochi anche quelli che si possono utilizzare per bocca perché la maggior parte sono per uso sistemico quindi un uso specificatamente ospedaliero invece gli oli essenziali la meraviglia è che non sono così da una sola molecola ma hanno centinaia di molecole e quindi anche per il microrganismo dovesse riuscire a trovare delle strategie per bloccare una di queste molecole ma ne ha così tante che alla fine è molto più efficace guarda questa è un'immagine che fa riferimento al biofilm generato proprio dalle candide e di come all'interno del biofilm le candide così come i batteri lo citava lì via poco fa hanno la capacità di una volta incontrato un antibiotico e scoperto come difendersi di generare pezzettini di DNA che si passano fra di loro e una volta che loro escono fuori dal biofilm non solo si portano presso la capacità di produrre biofilm ma anche la capacità di resistere a quelle che sono le nostre armi ecco arriviamo poi alle terapie secondo la medicina complementare con l'utilizzo anche degli oli essenziali prima però vorrei rispondere a questa ragazza visto che mi ha mandato le manine in preghiera e quindi è giovane la dobbiamo aiutare ovviamente questi sono consigli saluta sia lei che la dottoressa Livia Emma vi ringrazia perché scrive mi state aiutando tantissimo con i vostri consigli soprattutto perché nessun medico crede alle mie parole ho 25 anni tra l'altro ci scrive dalla Puglia Martina dalla Puglia ho 25 anni da 7 anni non sono più la stessa persona il problema è secondo me una candidosi intestinale perché ricordo che i primi sintomi che ho avuto erano gastrointestinali e ansia e depressione forte ma io pensavo fossero dovute a stress ho eliminato gli zuccheri drasticamente per due mesi e ho integrato con olio di cocco aglio eccetera e mi sono ripresa totalmente dopo 7 anni ma penso che non ho risolto ancora il problema circa 10 giorni fa ho fatto il test serologico per la ricerca di anticorpi candida EGG EGM EGA tutti al di sotto dei livelli di riferimento ma comunque presenti come devo comportarmi? ciao Martina buonasera intanto se gli anticorpi sono al di sotto cioè se sono all'interno del range di riferimento sono al di sotto vuol dire che quegli anticorpi sono negativi è possibile che quello che tu hai patito o stai patendo possa essere causato da una candida quando noi abbiamo questo dubbio ci rivolgiamo a questi ambulatori che sono in giro per l'Italia ce ne sono due al nord uno al centro e uno in Sicilia dove mettiamo in contatto il paziente il paziente manda un campione fecale e a secondo del laboratorio del test fatto sono capaci di arrivare alla visualizzazione di 90 candide diverse perché una coprocultura che impiega parecchi giorni in quel caso quando viene identificata la candida il laboratorio fa un doppio test l'antimicogramma ovvero fanno il test di quali farmaci antimicotici colpiscono la candida quelli a cui è resistente e lo stesso per quanto riguarda gli oli essenziali se non ricordo male sono 24 o 26 gli oli essenziali testati sul discorso dell'antimicotico lo anticipava Livia il problema è che gli antimicotici non sono per la libera vendita alcuni di questi hanno degli effetti tali da considerare prudente solo l'uso ospedaliero quindi non puoi andare in farmacia ad acquistarli neanche con la ricetta medica alcuni sì altri no alcuni sì altri no perché presumo che gli effetti collaterali se sono ad uso ospedaliero siano piuttosto sono effetti collaterali sistemici certo quali proprio la tipologia di somministrazione è in dovena non è per bocca per questo appunto l'uso è esclusivamente ospedaliero e molto spesso anche questi non sono efficaci ci sono diverse le civile ce lo spieghiamo un medico proprio se tu vai alla cieca cioè se dai l'antibio per esempio nel caso di candida orale dai quel farmaco che prendono tutti gli anziani tra case di riposo ospedale prendono sempre lo stesso farmaco per bocca ha un aspetto lattesciente il micostatin ok quello lì trodano anche il discorso è quella candida è sensibile al micostatin non lo vanno a testare sì c'è solo quello non esiste un'alternativa quindi l'idea è come per esempio nel caso quindi c'è solo un farmaco tanto è un farmaco funzionerà e se non funziona e se non funziona poi ti dicono che è stress oh certo e poi è stress o la lingua orente ecco o problemi digestivi tra l'altro è arrivato un messaggio sulla lingua orente come cosa prendere mi chiede allora qua la lingua orente rosa delle marche rosa è purtroppo una una patologia abbastanza spinosa perché non c'è mai una sola causa quello per quello che noi abbiamo visto da un lato le mucositi quindi per esempio ci andiamo a cercare problemi con il nickel o la sensibilità al glutine non c'è problemi con le vitamine perché possono esserci delle alterazioni dell'assorbimento di vitamine o in quel momento o genetiche per esempio quelle sulla vitamina D e sulla vitamina B9 e B12 che vediamo frequentemente e il terzo problema che è purtroppo quello più rognoso è che qualunque tipo di dispositivo utilizzi per fare guarire queste lesioni che spesso abbiamo su una lingua orente è che si sciolgono con la saliva e quindi qualunque prodotto metti lì dura da Natala Santo Stefano e quindi di solito noi partiamo dalla ricerca dei problemi intestinali partiamo da lì utilizziamo se c'è bisogno se abbiamo bisogno di avere un assorbimento elevato di vitamine sali minerali e non possiamo usare la lingua ci sono gli spray sublinguali cioè evitiamo di arrivare sia alle flebbo che alle punture se c'è un'alternativa ma sono persone che spesso hanno altri parenti con la lingua orente quindi questo fa sospettare un tratto genetico oppure sono gli unici della famiglia ma troverai che sono stati martoriati di trattamenti farmacologici allora veniamo ci state mandando un sacco di messaggi io vi ringrazio poi rispondiamo ma siccome tra un po' la dottoressa Liviema ci lascerà perché entrerà l'altro ospite mi piacerebbe capire perché il primo fattore scatenante della candida oltre ovviamente l'abbiamo detto l'antibiotico l'uso cospicuo di cortisonici o di altri farmaci come i farmaci monoclonali l'alimentazione sicuramente concorre a rinvigorirla un punto fondamentale scusate non spero sia candida un reflusso un reflusso sì allora chiederei il suo autorevole parere in merito all'alimentazione soprattutto per le persone che pensano di soffrire di candida o che hanno un effettivo problema di candida spesso le donne hanno questa candidosi ricorrente usano gli ovuli usano le creme antimicotiche vanno e vengono risolvono per un po' fanno lavaggi fanno lavande allora partiamo dall'alimentazione effettivamente sempre sottostimato capita spesso che pazienti magari che sono in miglioramento poi a un certo punto magari di chiare un dottoressa ha avuto un episodio durante la notte la mia prima domanda è cosa hai mangiato ieri sera cosa c'entra cosa ho mangiato e sì perché spesso è quello che fa la differenza perché in uno stato dove noi stiamo cercando di dare un effetto antinfiammatorio e stiamo curando trattando appunto con potrebbero essere le piante le essenziali qualsiasi cosa uno voglia utilizzare e poi io vado a dare un trigger infiammatore perché vado a mangiare fuori il ristorante cinese che sia il fast food che sia qualsiasi cosa o lo street food allora vado a dare comunque come se buttassi benzina in un fuoco che era stava cercando di spegnersi e questo poi ovviamente va a peggiorare la sintomatologia c'era quella slide dove parlava dell'alimentazione ecco questa è la se si vede il video che forse si era un pochino mosso quello delle ife è quello più pericoloso è meraviglioso perché vediamo alla sinistra la candida fisiologicamente come si moltiplica nel centro e quando accade qualcosa che va a perturbare lo stato fisiologico della candida per esempio un antibiotico allora inizia a sviluppare le ife quella è la forma patogena quella che noi dobbiamo comunque arrivare a combattere perché è la forma cattiva perché abbiamo detto che la candida quando è commensale in realtà è fisiologica se ne stali buona in realtà non si moltiplica neanche tanto ma fa il suo e qui invece nell'ultima immagine sulla destra è il nostro sistema immunitario la meraviglia del sistema immunitario un macrofago che fagocita una cellulina di candida albicans sono sempre i macrofagi poverini che devono lavorare sono gli spazzini che vanno sempre in giro a cercare i patogeni ed è meraviglioso perché si vede anche di come pian piano se l'ingloba e poi lo distrugge quindi se siamo nel caso in mezzo è un gran casino esatto quella quando si manifesta la sintomatologia esatto e proprio perché sviluppa le infie con cui si infiltra tra l'altro nel tessuto crea infiammazione crea il dolore crea tutto quello stato del disagio esatto quel muco bianchiastro che poi fuoriesce che di fatto sono delle perite anche dolori e rapporti sessuali perché ricordiamo anche questo c'è lo scambio tra uomo e donna che è continuo purtroppo infatti e quindi comunque è un continuo e nelle immagini dopo parlava anche della parte alimentare perché è una parte che comunque effettivamente spesso viene trascurata ma anche da noi professionisti adesso arriva arriva la regia ci sta seguendo un po' in fretta questa è l'immagine dove vediamo a sinistra fisiologicamente la candida che comunque si nutre anche di fibre si nutre di quello che mangiamo esattamente come tutti gli altri microrganismi quando accade un qualcosa e guardate un pochino le cause citano in questo lavoro l'antibiotico quella che chiamano western diet e vediamo che cosa c'è nella western diet le bibite gasate ci sono gli alimenti confezionati i dolci esatto e la terapia citostatica quindi sempre comunque simile a antibiotici si va a causare un'alterazione dal punto di vista batterico che viene completamente diciamo abbattuta e lei giustamente è fisiologia io vedo il mio terreno accanto vuoto mi allargo da un lato e dall'altro allora dottoressa per chi ha la candida per esempio vaginale un consiglio vaginale che poi arriva dall'intestino poi migra abbiamo detto quali sono i cibi da evitare quali da limitare quali invece possono aiutare e poi soprattutto per quale periodo perché magari una si fa una dieta di una settimana un mese la dieta deve accompagnare ovviamente tutta la fase comunque di cura quindi vuol dire ridurre gli zuccheri semplici ridurre anche i carboidrati raffinati e i funghi lieviti anche perché sono della stessa famiglia quindi usando i lievitati per esempio il saccharomyces cerevisi di cui abbiamo citato prima è quello che noi abbiamo nel lievito di birra quello che serve per panificare e quindi per dare la fermentazione l'aceto contiene lieviti il vino contiene lieviti quindi sono tutti alimenti che possono andare a arrivare a uno stimolo perché fanno parte della stessa famiglia e anche tutto quello che sono le bibite zuccherate la frutta essiccata i formaggi molto stagionati anche perché spesso nei formaggi per esempio un gorgonzola ci sono delle muffe che danno quella gusto comunque caratteristico anche questo può essere uno stimolo comunque continuo e quindi bisogna fare attenzione a tutte le fonti di carboidrati che non vuol dire fare la dieta chitogenica perché mi sono arrivati anche i pazienti dove gli è stato consigliato di escludere completamente i carboidrati non è assolutamente il caso di arrivare a quel livello limitare sì tutti gli zuccheri ovviamente vanno eliminati ne possiamo fare a meno lasciare giusto la frutta per le vitamine i sali minerali lasciateli un secondo poi faremo la parte dopo un pochino più breve fatemi i consigli e gli ultimi quello invece da consumare sono per certo i grassi buoni quindi aumentare invece i grassi per dare comunque la sazietà e fornire anche supporto perché poi sono persone che iniziano a limitare tutto e poi iniziano a perdere peso proteine ad alto valore biologico le fonti di fibre quindi tutto quello che può essere frutta e verdura e sicuramente per chi lo tollera l'integrale perché abbiamo anche sempre detto nelle altre puntate che a volte l'integrale può dare fastidio e poi vabbè tutto quello che è fante vitaminica ci sarebbe forse da sottolineare il grano che nella tabella a sinistra non viene fuori in particolare a chi ci ascolta se avete mai fatto a casa una pizza un pane prendi un agente lievitante prendi la farina raffinata ci metti dell'acqua e lievita perché lievita non per la presenza di glutine è una proteina ma per la presenza delle fibre fermentiscibili che sono presenti in grano, orzo, farro e segale anche nella segale il pane è presente che pane duro cioè è un mattone però questo possono rappresentare fonte alimentare per i microorganismi per cui da protocollo diciamo per quanto riguarda me un po' meno per quanto riguarda lei perché lei è più specifica lei è un sarto degli alimenti io consiglio sempre una dieta FODMAP che non è una dieta chetogenica seguita ovviamente da professionisti capaci per tempi che sono da linea guida considerati ok fino a 6-8 settimane prima di reintegrare gli alimenti quindi abbiamo 6-8 settimane di tempo per poter combattere la nostra battaglia poi vediamo invece la terapia complementare dottoressa vuole dire qualcos'altro perché la pubblicità la regia ci toglie la linea comunque l'importante è stato detto rimane agli altri quindi si lo possono anche rivedere perché l'immagine rimane è importante sicuramente però il lavoro comunque di equip quindi non solo lavorare sul locale ma ricordarsi che l'intestino è la fonte quindi bisogna lavorare lì abbiniamo l'alimentazione e l'integrazione con queste tre cose l'efficacia è praticamente garantita pubblicità ci vediamo tra poco continuate a mandare messaggi se volete chiamarci avete il numero che state vedendo in sovraimpressione e poi entrerà la nuova ospite sua collaboratrice che ringraziamo che si chiama Giulia giusto Giulia Dari che è uno stretica di Palermo a tra poco grazie dottoressa Emma alla prossima Dalla maestria dei laboratori Erboplanet nasce la gamma degli oli essenziali HP oli essenziali microincapsulati sotto forma di capsule gastroresistenti grazie alla tecnologia lento rilascio i principi attivi vegetali vengono assimilati in maniera stabile nel tempo oli essenziali microincapsulati prodotti a base di principi naturali per il benessere gastrointestinale Erboplanet filosofia antica e tecniche moderne azienda italiana di integratori ad alta qualità le 20 buone erbe elisir depurativo ambrosiano combatte la stitichezza da Pulpharma in farmacia melaton med è pura melatonina in gocce facilmente dosabile basta una sola goccia la sera per dormire sonni tranquilli e godere di un effetto freschezza sulla tua pelle al risveglio con un solo flacconcino potrai avere oltre 200 dosi giornaliere la più economica la più efficace sul mercato melaton med ripristina il ritmo sonno veglia basta una goccia la prendo anch'io tutte le sere è attivo è attivo il servizio di videoconsulti olistici di Natur puoi prenotarlo sul sito natur.it oppure telefonando al numero in sovraimpressione ascolta la tua pancia e le ricette di Ascolta la tua pancia sapere cosa e come mangiare è la migliore terapia per prevenire e curare le malattie limitando al massimo l'uso dei farmaci Ascolta la tua pancia e le ricette di Ascolta la tua pancia i best seller di Gabriele Prinzi e Livia Emma per prenderci cura di noi stessi perché la nostra salute vale nelle migliori librerie e su Amazon.it Immagina di levitare in un sonno perfetto i materassi Tempur ti accolgono adattandosi al tuo corpo regalandoti una sensazione di assoluta leggerezza così da farti svegliare ogni giorno fresco e riposato grazie all'originale inimitabile tecnologia Tempur testata nello spazio e riconosciuta ufficialmente dal sigillo della NASA Immagina che tutto questo diventerà realtà entrando nello showroom di Paolo Spotti in via Bergamo 34 a Castelverde Cremona Tempur quello che senti è leggerezza Avrò cura di te è l'obiettivo dell'hotel Antoniano a Montegrotto Terre vi accoglieremo nel reparto cure tra i più grandi di Europa 18 vasche per la fangoterapia ideale contro le infiammazioni causate dall'artrosa e le inalazioni per i trattamenti delle prime vie respiratorie e con l'impegnativa del vostro medico potrete avere 6 fanghi e 6 massaggi per una settimana di cure a 168 euro avrò cura di te è l'obiettivo dell'hotel Antoniano di Montegrotto Terre perché voi siete preziosi l'intestino è il tuo secondo cervello mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata probioticamente gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale un uovo proprio TK mio rafforza le tue difese immunitarie da Pulfarma in farmacia pancia gonfia flatulenza meteorismo che fastidio quell'aria nell'intestino Trio Carbone migliore il benessere intestinale e oggi in flaconcini Trio Carbone gas control da Pulfarma in farmacia Metti al centro del tuo problema un'eccellenza dottor Saverio Ferrari parabita tutte le novità in campo dentale impianti zigomatici e impianti iux da ossei di ultima generazione implantologia a carico immediato senza dolore e in tempi brevi risolviamo i vostri problemi possibilità di stabilizzare le vostre protesi offriamo tutta la nostra professionalità preventivi senza impegno numero verde gratuito 800 325 315 i nostri centri sono a Brescia e a massa dottor Saverio Ferrari parabita accendi il tuo sorriso colesterolo Kilo Cal colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea Kilo Cal una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso Kilo Cal colesterolo da Pulfarma in farmacia ciao Giovanni ciao Walter non ti ho visto il riservo a teatro e cosa vengo a fare a teatro tanto lo sai che non ci sento un imbarazzante calo deludito o un fastidiosissimo acquofene sta rovinando le tue giornate e la tua vita prenota subito una visita audiometrica con il dottor Portaro specialista in tecniche audioprotessiche presso il centro per l'udito di Piacenza è gratuita anche tu prenota subito la tua visita audiometrica gratuita grazie l'avessi fatto prima centro per l'udito del dottor Salvatore Portaro a Piacenza in via Raineri 2D pancia gonfia flatulenza meteorismo che fastidio quell'aria nell'intestino Trio Carbone migliora il benessere intestinale e oggi in Flaconcini Trio Carbone Gas Control da Pulfarma in farmacia bene tornati in studio abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria come vi ho annunciato siamo sempre in diretta abbiamo salutato la dottoressa Olivia Emma che comunque è qua con noi se c'è bisogno del suo aiuto magari le chiederemo di intervenire abbiamo con noi la dottoressa Giulia Dari mi hanno corretto perché non è di Palermo ma originaria di Roma si è trasferita a Palermo dove è aperto l'ambulatorio e dove c'è ovviamente la collaborazione con le dottore Prinzi allora prima di venire da lei che parleremo appunto dello stretto legame che esiste con queste patologie e l'ambiente vaginale mi piacerebbe capire dal dottore secondo la sua esperienza come possiamo intervenire con la candida e le varie infezioni miste mi stava raccontando una cosa molto particolare che anche la dottoressa Giulia utilizza allora gli oli essenziali quali possiamo utilizzare se ci sono delle piante che possono essere di aiuto ci sono delle piante diciamo che in caso di necessità possono anche essere date alla cieca ho la fortuna con questo laboratorio che ti citavo che riesce a vedere 90 candide cioè riesce a identificare una coprocultura 90 candide che più di un paziente e fa parte dell'esame aveva gli scherichia coli alle stelle e quindi a forza di vedere questi esami e vedere sempre gli stessi tre oli essenziali molto presenti molto potenti sia per le candide che per gli scherichia coli quindi sugli esami con un aumento degli escherichia e un aumento o la presenza di una candida i tre oli essenziali che sono sempre stati al massimo della potenza sono stati la cannella la santoreggia e l'origano da cui poi è venuto fuori il libro dell'origano ovviamente la cannella perché la cinamaldeide è una molecola che è stato dimostrato capace di sciogliere il biofilm esattamente come l'origano ovviamente per motivi di prudenza o quando andiamo a cercare qual è l'agente patogeno che perturba un paziente andiamo a fare per prima cosa su una coprocoltura è difficile che facciamo un esame del microbioma non andiamo a cercare il test genetico però andiamo a cercare diciamo così le erbacce da strappare e quindi in questo senso la mia la mia prima azione terapeutica oltre la dieta FODMAP che per scuola io prescrivo è quella degli oli essenziali mediamente parliamo di terapie lunghe tra le tre e le quattro settimane con due massimo quattro compresse al giorno a secondo di quello che viene fuori dalla testatura quante diceva due o tre capsule al giorno? allora di solito quando do l'origano lo somministro insieme alla lavanda non perché la lavanda venga testata per la sua efficacia contro i microorganismi ma per un effetto da un lato sulla mucosa e dall'altro sull'umore della persona quindi aiuta molto a accalmare la persona ma anche la lavanda ha degli effetti microbiologici però viene più viene più portata avanti come terapia di sostegno e di solito quindi se devo pensare al protocollo classico quindi non sto parlando di un abito fatto su misura una compressa di origano viene data a pranzo e a cena una compressa di lavanda viene data a pranzo e cena se i pazienti sono particolarmente sensibili a questo tipo di oli essenziali noi la diamo qualche minuto prima di qualche minuto prima di mangiare un'altra compressa che è una compressa mista ovviamente non stiamo parlando di gocce di oli essenziali perché le gocce in quelle quantità hanno due pericoli quello di avere un effetto caustico e quello di non arrivare dove devono arrivare caustico cioè allo stobacco possono creare fastidio a me è capitato se io ho una mucosite un taglio su una guancia un'esofagite una gastrite l'arrivo delle gocce di oli essenziali in una certa quantità potrebbe non dico che sicuro però potrebbe avere un effetto caustico quindi molte aziende che cosa fanno le fanno in microcapsule microperle in modo tale da non toccare la mucosa ovvero di superare lo stomaco e quindi di evitare di diciamo di essere disperse nello stomaco ma considerando che dopo lo stomaco ci sono 5-6 metri di intestino tenue e poi arriviamo al colon il mare grande che poco fa ho definito camera fermentativa o grande fogna ecco quelle gocce potrebbero disperdersi per cui quel tipo di compresse o le gocce possono avere senso nella prima parte del digerente ma non arrivano nella parte finale dell'intestino tenue né nel colon quindi avendo sulla mia pagina parecchi contatti mi dicono ma quante gocce ne devo prendere io le prendo dentro una capsula piuttosto che dentro l'ostia piuttosto che le prendo con un cucchiaino di miele è chiaro che io non posso dire che sia imprudente ma è altamente probabile che sia inefficace per il tipo di lavoro ma anche io le mettevo nella capsula però prendiamo una donna che ha nello stomaco poi le sentire fai un esempio di una donna che ha all'urino culturo un milione di escherichia coli nelle urine e questo milione di escherichia coli nelle urine è una manifestazione delle quintalate di escherichia coli che sono nel colon come fai a ridurne il numero come fai a buttarli fuori se le gocce non superano un certo tratto che non vuol dire che sia sbagliato utilizzare le gocce oppure come in un messaggio di poco fa l'origano tritato messo nelle capsule perché poi il discorso è arrivare fino arrivare fino al colon specialmente non scordiamocelo la maggior parte di queste donne per esempio quelle con la cistite cronica potrebbero essere delle donne costipate anzi non so se Katia può mettere quella slide della fibromialgia ho fatto domenica scorsa un collegamento con una conferenza in Sardegna quella successiva per favore questo è un lavoro abbastanza recente di giugno del 2023 che mette insieme nella stessa famiglia di patologie la fibromialgia la stanchezza cronica l'intestino irritabile la cefalea tensiva riesce a mandarci la slide successiva così no no questa è questa è perfetta ho sbagliato ho capito male io guarda quante patologie rientrano nella stessa famiglia i disturbi della sensibilità centrale le cistiti le sindrome del pavimento pelvico stanchezza cronica intestino irritabile quindi ritornando alle terapie allora abbiamo detto cannella Santoreggia origano oppure quelle sono le tre più potenti quelle più potenti vanno messe cioè vanno prese microincapsulate per avere un effetto diciamo terapeutico sicuro comprovato la microincapsulazione che ovviamente è stata modulata da quello che i trattamenti agroalimentari sulla conservazione dei cibi la microincapsulazione ti assicura due effetti la capsula è gastroresistente quindi non viene sciolta dall'acido e le microcapsule su cui è aderente l'olio essenziale sono delle microcapsule fatte di cellulosa quindi non si apre nell'acido ma si va aprendo gradualmente nell'intestino e quindi è un effettore tardo origano più lavanda pranzo e sera una capsula per ognuna il NAC serve abbiamo parlato di microfilm va preso non va preso questo poi dipende dal paziente c'è stato un periodo dell'attività clinica di MediLivia che noi sul SIBO e sulle candidosi mettevamo quintalate di NAC e alcuni pazienti ne hanno avuto benefici altre volte però c'è da considerare che non sapendo che tipo di problemi hanno a livello di istamina l'N-aceticisteina blocca quello che io chiamo il pompiere dell'istamina e quindi può portare un eccesso di istamina e quindi su alcuni pazienti il motivo per cui dà fastidio si blocca il DAU e farei farmaci che blocca il DAU esattamente come gli inibitori di pompa protonica e tantissimi antibiotici la lista è tristemente lunga quindi NAC bisogna capire se una persona è allergica certo lo vediamo se una persona non è allergica quindi lo può prendere serenamente compresse da 600 mg due compresse al giorno sono considerate lo scritto nel libro dell'origano nel capitolo terzo ho fatto proprio uno dell'N-aceticisteina e lavori italiani degli ultimi anni dove l'N-aceticisteina in quelle quantità è stato anche somministrato per un anno un anno e mezzo a pazienti con la broncopneumopatia cronico-struttiva anche a pazienti con l'asma ovviamente nelle altre trasmissioni è capitato che qualcuno chiedesse ma non è che l'N-aceticisteina fa male ai pazienti con l'asma bisogna capire qual è la causa di quell'asma perché l'asma è una manifestazione ma la causa qual è? ok quindi oli essenziali abbiamo detto quali origano più lavanda poi NAC se una persona non è allergica esatto stiamo avendo stiamo selezionando anche i pazienti per utilizzare sia delle supposte diciamo sono delle supposte omeopatiche che hanno un effetto anticandida e inizieremo fra poco una chiederemo faremo una chiamiamo la sperimentazione perché sull'endometriosi già vediamo gli effetti dell'utilizzo del CBD intravaginale come sostegno alla riduzione dell'infiammazione all'interno dell'ambiente vaginale quindi anche per la candida va bene il CBD in vagina il CBD lo utilizziamo più per l'ambiente vaginale che non per la candida perché anche se il CBD ha dimostrato il cannabidiolo ha dimostrato di avere un effetto anticandida però in quel caso noi lo utilizziamo piuttosto per l'ambiente ci sono dei lavori scientifici eccezionali che dimostrano come per esempio nella secchezza vaginale in altre situazioni il cannabidiolo applicato localmente ha risolto o ha stimolato i processi di guarigione invece sull'ambiente più prettamente vaginale poi lascerò la parola alla dottoressa Giulietta se assumiamo gli oli essenziali e facciamo questo tipo di cure probiotici vanno presi attenzione è la dieta FODMAP ok è la dieta FODMAP probiotici ne vanno presi i probiotici che io personalmente do in prima battuta perché non sono probiotici sono soprattutto i saccharomyces baulardi perché sono dei degli antagonisti della candida altrimenti i probiotici aspetto sempre una seconda fase sia perché non vorrei che i nostri migliori soldati incontrassero delle sostanze che possono vanificarne l'utilizzo perché non ci sono lavori scientifici che ci dicono se il probiotico A o il probiotico B subiscono l'effetto mortale dell'olio essenziale e in più anche per non complicare la terapia quindi se prendo l'olio essenziale prendo i probiotici l'olio essenziale potrebbe andare a distruggere potremmo vanificare l'utilizzo dei probiotici quindi aspettiamo fai quelle 3-4 settimane successivamente nella seconda fase parlo sempre di protocollo che poi va adattato alla persona utilizziamo un prodotto con 5 amminoacidi che è un riparatore della mucosa dell'intestino tenue perché una volta che bombardi poi devi andare a ricostruire il pavimento e in uno insieme con quel trattamento mediamente per 4 settimane partiamo con la sommissazione di probiotici e quindi rivalutiamo il paziente fondamentalmente a circa 6-8 settimane dall'inizio del trattamento per vedere che cosa è rimasto a livello di sintomi che cosa andrà ad aggiustare quindi il test mi chiedono anche il test lo ricordiamo che per vedere se c'è una candida e quale tipo ci sono dei laboratori specializzati la cosa più diretta e più precisa avevamo poco fa un riferimento agli anticorpi ti ricordi? qualcuno ha scritto le hanno aspetti cos'è che aveva detto? che c'erano gli anticorpi GI, GA e GM all'interno dei valori di riferimento forse era sul tablet quel messaggio ecco per esempio questa signora dice recidiva di scherechia con antibiotici oli essenziali non ho benefici da un mese sto facendo entero c'è questo gel che pulisce l'intestino adesso non dico la marca che l'ha consigliato il gastroenterologo cosa dice il dottor Prinzi tra l'altro questo gel per me è ottimo anche io in questo caso se si tratta di un escerichia coli a livello della vescica per esempio nelle urine questi tre laboratori di analisi fanno un urino cultura con con antibiogramma come fanno tutti i laboratori e con aromatogramma quindi questo mi permetterebbe di capire qual è l'olio essenziale più specifico non è detto che sia l'origano o la lavanda o la menta o la cannella cioè puoi vedere esattamente come in un laboratorio di analisi classico ti dice la sensibilità agli antibiotici questi tre quattro laboratori in Italia ti dicono la sensibilità agli oli essenziali poi se io devo arrivare a lavorare in una vescica e a monte c'è la garica batterica le quinte late di escerichia nel colon se non arrivo nel colon è possibile che quell'olio essenziale il migliore del mondo con una confezione d'oro alluminio alluminio eccetera meraviglioso che il migliore della piazza però se non è micro incapsulato non arriva nel colon quindi per erradicare diciamo la parte quella più grossa della candida ci vogliono dalle 5 alle 6 settimane facendo dieta o di più di più noi ripeto partiamo da una terapia con gli oli essenziali che va tra le 3 e le 4 settimane ma quando arrivano con le plurirecidive o con la candida sin da bambine capisci è vero non esistono due pazienti uguali ognuno porta presso la sua storia ecco come mai il dottore ha deciso di aprire un ambulatorio plurispecialistico nel quale c'è anche tra l'altro c'è la la dottoressa ostetrica che abbiamo con noi che giuro e che adesso parliamo con lei mi permetto qualche piccola considerazione la prima non sono ginecologo non sono capace di fare visite ginecologiche e non ho l'esperienza di chi come Giulia è il gruppo con cui fa formazione a livello nazionale quindi l'idea è stata perché andarmi a prendere una specializzazione in ginecologia a perdere anni a fare pratica quando c'è qualcuno che è già capace di vedere e di intervenire e quindi in questo caso la sinergia è lo stesso discorso che ho fatto con Riccardo Cecchetti io adoro l'osteopatia però per fare tre o quattro anni di osteopatia intanto che faccio il corso comunque ho dei professionisti all'altezza la seconda la seconda è che arrivano per problemi di gastrite per problemi di colite però poi alla fine spesso e volentieri non vengono solo per quello oppure vengono che hanno la gastrite o la colite e poi c'è tutto il resto e quindi sentivo il bisogno di confrontarmi è un argomento che di solito si preferisce solo affrontare con la ginecologa che con un medico perché le donne comunque sono abituate a pensare beh no problema lì allora vado dalla è che non sempre i professionisti i professionisti che loro scelgono hanno questo tipo di visione o sono diciamo predisposti all'ascolto noi abbiamo sentito di professionisti dire la candida ce l'hanno tutti e quindi liquidare così un referto di laboratorio però magari non patogena perché il laboratorio ti dice se c'è un overgrow quindi dire che ce l'abbiamo tutti significa mettere in dubbio quello che sta tirando fuori un laboratorio allora devo dire che l'argomentazione che ci porterà Giulia è davvero molto interessante perché prima così parlando della trasmissione ho io che comunque sono una donna a 45 anni tra poco ancora 44 ho avuto tre figli ho frequentato un sacco di ginecologi ovviamente l'ambiente ospedaliero ma tante cose mi sono accorta che le sto sbagliando allora veniamo un pochino al suo approccio che cosa si sente di dire alle donne soprattutto che hanno problemi di candida allora una cosa importante come già ha detto Gabriele è avere una visione di equip il bisogno dell'unione con Gabriele è stato perché la donna solitamente va a fare una visita viene valutata a livello vaginale ma non sistemico quello che mi sento di dire alle donne è che quello su cui bisogna partire è il corretto stile di vita quindi abbiamo detto alimentazione abbiamo detto occuparci dell'intestino ma come ci occupiamo per esempio del lavaggio dei denti tutti i giorni dovremmo sapere le regole base per banalmente una corretta detezione intima o piuttosto quali sono durante la giornata delle abitudini di vita che ci portano a una sovraccrescita di un patogeno come la candida perché non scordiamoci che addirittura si parla di micobiota cioè all'interno della vagina l'ecosistema è perfetto dobbiamo avere tanti lattobacilli una minoranza di altri microrganismi ma non dobbiamo farli fuori tutti se io quotidianamente perché nessuno me l'ha detto utilizzo per esempio un detergente intimo con la clorexidina che è un antibatterico molto forte diciamo che e lo utilizzo per anni e uno con il T3 è che è la stessa cosa perché allora diciamo che naturale non è innocuo cioè il fatto che noi utilizziamo gli oli essenziali uno perché a livello laboratoriale abbiamo visto che antibiogramma e aromatogramma è il test che ci guida nella scelta dell'atto terapeutico ovviamente io non sono un medico quindi con Gabriele la sinergia è nata anche perché io mi occupo di prevenzione cura di agnosi nell'ambito ginecologico ostetrico neonatale ma ho ovviamente un limite perché non sono medico quindi acqua e bicarbonato va bene? allora l'acqua e bicarbonato il bicarbonato ha un pH molto elevato siamo intorno ad 8 vorrei fare una precisazione sulla pH vaginale che prima ha fatto la domanda è giusto dottoressa la devo fermare un secondo perché abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi ritorniamo sul pH vaginale perché mi interessa molto e il bicarbonato che anche questo me l'hanno consigliato ovviamente l'abbiamo usato l'uso dalla maestria dei laboratori ErboPlanet nasce la gamma degli oli essenziali HP oli essenziali microincapsulati sotto forma di capsule gastroresistenti grazie alla tecnologia lento rilascio i principi attivi vegetali vengono assimilati in maniera stabile nel tempo oli essenziali microincapsulati prodotti a base di principi naturali per il benessere gastrointestinale ErboPlanet filosofia antica e tecniche moderne azienda italiana di integratori ad alta qualità porta a casa tua i benefici della Ioniterapia da quando ho scoperto la Ioniterapia la mia vita è cambiata il benessere parte dalle cellule Ioniflex energia vitale grazie all'invio di ioni salutari direttamente alle cellule Ioniflex energia vitale per una difesa naturale contro dolori infiammazioni allergie virus e molto altro per riscoprire il benessere e fare un pieno di energia per tutti anche per Fido Ioniflex energia vitale visitate il sito www.ioniflex.com resterete sorpresi le 20 buone erbe elisir depurativo ambrosiano combatte la stitichezza da Pulfarma in farmacia alla Metal Mark sono iniziati i saldi nei reparti abbigliamento calzature intimo e pelletteria super saldi con sconti fino al 60% su tutti i prodotti nessun marchio escluso approfitta ora della promozione troverai le migliori marche uomo donna e bambino con sconti reali fino al 60% i veri saldi sono alla Metal Mark in tutti i reparti abbigliamento calzature intimo e pelletteria super saldi ti aspettiamo in Viale Adua 36 Orzi Nuovi Brescia Curcuma e De Plex è un integratore alimentare naturale a base di curcumina pepe nero e poligono la curcuma è conosciuta come la spezia della giovinezza grazie alla sua azione antiossidante Curcuma e De Plex potenzia anche la funzione digestiva regolando la mobilità gastrointestinale bastano 3 capsule al giorno Curcuma e De Plex per mantenersi sani e giovani ve lo consiglio è attivo il servizio di videoconsulti olistici di Natur puoi prenotarlo sul sito natur.it oppure telefonando al numero in sovraimpressione casella macchine agricole dal 1954 a Carpaneto Piacentino da oltre 60 anni leader nella produzione di impianti per l'irrigazione a pioggia quali irrigatori semoventi e motopompe punto di riferimento nello spandimento ombelicale dei reflui importatore ufficiale di Wervat il semovente olandese ideale per una gestione efficiente di liquami e digestati un team di oltre 150 persone tutte con un unico obiettivo la soddisfazione totale del cliente casella macchine agricole l'attenzione all'innovazione è il nostro presente realizzarla è il nostro futuro CDE Clinica Dermoestetica specialisti in medicina estetica e odontoiatria centro medico di riferimento per rimozione macchie viso e corpo laser israeliani di ultima generazione per levigare il viso rimozione cisti sebacee e neoformazioni senza l'uso del bisturi lifting medico del viso con sistemi di ultrasuoni localizzati eliminazione del grasso e rimodellamento del corpo questi e molti altri trattamenti ti aspettano in CDE scoprili tutti consultando il nostro sito internet www.clinicadermoestetica.it Paolo Spotty prodotti selezionati per aiutarti nella mobilità quotidiana presenta la nuova tecnologia Fibramed poltrone relax rivestite da uno speciale tessuto rigenerante efficace per combattere il dolore e gli effetti dello stress a contatto con il corpo il tessuto Fibramed riflettendo l'infrarosso corporeo aiuta a contrastare ed alleviare diverse patologie come artrosi osteoporosi lombalgie e molte altre la poltrona Fibramed è una poltrona rivoluzionaria vieni a provarla da Paolo Spotty poltrone relax per il tuo benessere avrò cura di te è l'obiettivo dell'hotel Antoniano a Montegrotto Terne vi accoglieremo nel reparto cure tra i più grandi d'Europa 18 vasche per la fangoterapia ideale contro le infiammazioni causate dall'artrosa e le inalazioni per i trattamenti delle prime vie respiratorie e con l'impegnativa del vostro medico potrete avere 6 fanghi e 6 massaggi per una settimana di cure a 168 euro avrò cura di te è l'obiettivo dell'hotel Antoniano di Montegrotto Terne perché voi siete preziosi l'intestino è tuo secondo cervello mantienilo in salute con un'azione probiotica mirata probioticamente gamma completa di fermenti lattici vivi per l'equilibrio della flora intestinale un nuovo proprio TK mio rafforza le tue difese immunitarie da Pulfarma in farmacia pancia gonfia flatulenza meteorismo che fastidio quell'aria nell'intestino Trio Carbone migliora il benessere intestinale e oggi in flaconcini Trio Carbone gas control da Pulfarma in farmacia colesterolo Kilo Cal colesterolo ama il tuo cuore e la tua linea Kilo Cal una compressa al giorno per l'equilibrio del colesterolo e del peso Kilo Cal colesterolo da Pulfarma in farmacia stanco? stressata? M G K B M G K B se ricarica plus il tonico energetico senza zuccheri M G K B se ricarica plus fai il vis di energia le 20 buone erbe e l'isir depurativo ambrosiano combatte la stitichezza da Pulfarma in farmacia di nuovo il studio brevissima pausa pubblicitaria ci siamo lasciati con le pH vaginale e lavaggi con acqua e bicarbonato ok stavamo dicendo ha quale cargolato? no non lo sapevo stavamo dicendo che il pH vaginale va in base all'età della donna perché fino adesso non abbiamo specificato qualcosa di importante la donna ha tantissime fasi rispetto all'uomo gli ormoni caratterizzano la fase in particolare quindi il pH vaginale cambia principalmente quando siamo molto piccole in diciamo la pubertà la gravidanza l'età fertile e la menopausa quando abbiamo bambine molto piccole diciamo che il pH è molto simile alla menopausa ma perché mancano gli ormoni principali infatti non c'è il mestruo e quindi il ciclo non è attivo e quindi dobbiamo andare su un pH più alto intorno a 5 quando ci troviamo invece in età fertile il pH di riferimento è tra 4 e 4.5 in gravidanza siccome noi siamo diciamo degli organismi perfetti perché siamo improntati per sopravvivere bene la vagina diventa più acida quindi a 3.5 questo ha un valore funzionale biologico perché protegge dai batteri a maggior ragione in gravidanza e quindi da quelle che sono le infezioni che poi potrebbero provocare come la rottura delle membrane precoce perché purtroppo può esitare anche in questo mentre in menopausa andiamo si alza e quindi andiamo intorno a 5 quindi perché il bicarbonato non va bene perché il bicarbonato ha un pH molto elevato alcalino quindi significa che io vado a innalzare il pH vaginale posso avere un sollievo immediato perché può darlo ma sto distogliendo l'ecosistema vaginale da quello che è la sua funzione e dalla sua fisiologia una cosa importantissima è che il pH vaginale e chi ci vive dentro la vagina è una struttura complessa e la sua caratteristica principale è quella di avere delle pliche ok perché tendenzialmente per estendersi e quindi fare la sua funzione come per esempio nel parto deve avere una caratteristica una mucosa pliche se non ci sono lattobacilli se ci sono infezioni ripetute o se io non ho un corretto stile di vita la mucosa cambia la sua anatomia questa è la risposta a tutte quelle donne che per esempio hanno rapporti e perdono sangue piuttosto che camminano e proprio subentrano dei bruciori spontanei e quindi questo ha un impatto sulla vita della donna e a livello sociale molto importante quindi quale diciamo detergente utilizzare? sicuramente non andare al supermercato e scegliere quello che ci viene in mente perché c'è scritto una determinata diciamo pubblicità deve essere un detergente senza agenti chimici in particolare le peg per esempio i siliconi non deve contenere antibatterici come la clorexidina come abbiamo detto e soprattutto lo devo scegliere in riferimento all'età che sto vivendo essenziale tendenzialmente no perché il naturale non è innocuo e a lungo tempo se io utilizzo il T3 il T3 è comunque un olio essenziale molto efficace quindi può avere una razio se sto facendo un determinato percorso ma per cioè se io ho 40 anni e utilizzo un detergente da 15 anni con il T3 o la clorexidina mi capita una donna che la candida o la ccd ricorrente quale detergente possiamo consigliere il suo tendenzialmente il suo se deve scegliere il pH adeguato per lei può fare dei periodi alternati con il T3 ok però devono essere limitati alla terapia che fa quindi poi sospenderlo per poi riprendere quello che è il pH diciamo una donna diciamo in menopausa o premenopausa che detergente con quale pH o in menopausa o intorno a 5 ok mentre se sono più giovani 4.5 l'età fertile in gravitanza 3.5 bambine molto piccole 5 mi capita molto spesso che le mamme utilizzano un unico detergente per la famiglia ma anche l'uomo ha per esempio il suo pH quindi in realtà perché l'uomo che pH ha sul pene stiamo intorno ai 6 quindi va bene più quello per la menopausa se vogliamo fare un'economia ok però in teoria questa è un'educazione importante perché io quando facciamo l'anamnesi insomma anche con il dottor Prinzi e fai le domande come a volte c'è anche il bagno schiuma perché mi faccio la doccia tutte le mattine non mi viene in mente di portarmi dentro la doccia il mio detergente e vorrei dire anche un'altra cosa io santo spesso dire mi dicono dottoressa ma io faccio tutto nella norma per esempio il lavaggio lo faccio davanti e indietro perché rischio la contaminazione dall'ano diciamo alla vagina se possiamo rimandare la slide quella in riferimento dalla regia al pavimento pelvico possiamo capire che in qualsiasi modo e direzione io utilizzi il problema della traslocazione è interna eh io lo sapevo perché il colon è molto vicino alla vagina ci sta sopra noi non abbiamo inutile se abbiamo un lucky gut quindi questo intestino gocciolante queste time injection quindi questi cancelli che caratterizzano l'intestino che dovrebbero chiudere serrare il passaggio confinare quello che è la parte dei microrganismi se questo non avviene la traslocazione è interna non è esterna no salva slip mi sono impappinata no salva slip no sorbenti molto spesso le donne mi riferiscono che lo fanno perché hanno perdite anomale e magari neanche lo riferiscono al proprio curante ovviamente non è normale avere perdite diverse dal lattiginoso trasparente soprattutto sappiamo che è in età fertile durante l'ovulazione questo è fisiologico fuori non è fisiologico quindi invito le donne a confidare questo al proprio curante ma soprattutto spesso le donne mi dicono che lo fanno perché hanno un'incontinenza sia fecale che urinaria vorrei sfatare il mito che le donne debbano soffrire di incontinenza a tutta l'età perché è normale un internazionale ci può essere un'infiammazione molte incontinenze abbiamo riscontato con Gabriele che possono essere presenti perché l'uretra che è circondato da uno sfintere quindi un muscolo che proprio permette la chiusura giusto dell'uretra che è l'orifizio dove esce l'urina se io ho uno stato e uno stressor infiammatorio il muscolo va a modificare la sua anatomia può andare in ipotonia o in ipertonia questa alterazione può provocare un'incontinenza quindi cerchiamo di togliere il salva slip perché utilizzarlo tutto diciamo tutto il mese per tutti i giorni non crea un ambiente molto spavorevole alla candida al contrario perché il caldo umido il doc mi conferma che nella la candida praticamente è il suo cioè proprio tra l'altro c'è una mamma di Palermo che scrive che ha una figlia di 13 anni non ancora mestruata che però da anni ha perdite bianche come è nata questa bambina ci sarebbe da chiedere quanti antibiotici ha preso se è stata lattata tre domande sì ok sicuramente sarà così chiaramente essendo una paziente virgo fare una visita completa diventa complicato o imprudente però una coprocultura è priva di traumaticità e quindi una coprocultura può essere inviata considerando che sono vicini ad agrigento può essere spedita al centro NAMIP di agrigento per vicinanza però ecco le tre domande come è nata se è stata lattata e quanti antibiotici ha preso è stata lattata però per quanto è stata lattata in esclusiva quante volte capita che magari le mamme trovando un neonato particolarmente insaziabile aggiungono al loro latte un latte artificiale oppure questa mamma come è stata in gravidanza cosa ha assunto come ha mangiato la mamma come stava quando alimentava al seno questa bambina perché il problema dell'allattamento quando diciamo non somministriamo un determinato alimento perché fa venire le coliche allattate le coliche dipendono cesareo e antibiotici tanti ok quindi cosa potrebbe fare questa mamma che ha la bambina con la candida presumibilmente sicuramente partire da una buona detenzione sicuramente lavorare sull'intestino rispetto a gli alistenziali per esempio i bambini possono prendere da cura che abbiamo detto sicuramente sì però se c'è questo problema con la figlia io considero sempre un atto di prudenza fosse anche solo cercare su google la dottoressa Dari il suo ambulatore di Palermo è un atto di prudenza che ovviamente non arriva al livello del medico del ginecologo però potrebbe essere quel completamento alle domande della mamma con la raccolta anamnestica fatta bene come insegniamo al metodo ATP e poi essere avviata se c'è necessità un trattamento con gli oli essenziali ok poi c'erano altri consigli che ci poteva dare la dottoressa Giulia Dari non so perché mi piace sarà che mio figlio si chiama Giulio va bene Giulia mi piace tantissimo va benissimo Giulia e dico nome non il cognome allora abbiamo parlato nostre alba slip che sono molto dannosi l'uso di quali mutande? allora va bene lo slip diciamo bianco anche se se utilizzo slip colorati e poi ho infiammazioni non è normale cioè anche lì vuol dire che c'è qualcosa che non va il bianco è dato perché diciamo gli slip colorati ovviamente vengono utilizzati decoloranti e quindi possono creare delle interferenze per esempio quando andiamo a lavare gli slip utilizzare agenti chimici ora non facciamo nomi però sul mercato veramente ce ne sono alcuni che addirittura mi raccontano che lasciano in ammollo anche sciacquando in realtà nel tessuto si impregna questo additivo questo chimico questo prodotto chimico che a contatto con il calore della mucosa vaginale può interferire su quello che rilascia un ottimo rimedio igienizzante e sbiancante è il percarbonato di sodio questo lo possiamo dire quindi l'ammollo con acqua calda molto calda il percarbonato di sodio vedranno che si attiva proprio la gente diciamo igienizzante fa proprio delle bolle quindi già questo risciacquare bene ci può aiutare ecco tra l'altro è molto difficile spesso si utilizzano un sacco di prebiotici per arrivare in loco in vagina dove c'è la trasmigrazione comunque di agenti batterici o comunque della candida invece localmente che cosa possiamo mettere? allora localmente ci sono ovuli che hanno all'interno diciamo prima quali rettali anche diciamo il supporto rettale attraverso come diceva l'ottor Prince sta vedendo degli effetti con questa supposta omeopatica si sta dando quali effetti sulla candida lo sta vedendo? diciamo che le donne che fanno la terapia locale sono tutte in sinergia e integrate ok quindi non vengono e fanno solo quello però lavorare per via locale anche per via rettale attraverso degli ovuli ha un diciamo effetto positivo per esempio questi di quelli di cui parlavamo oggi hanno ceppi di candida albicans esatto quindi ovviamente e come va assunta? una supposta una supposta per quanto tempo? per dieci giorni per dieci giorni consiglio ovviamente la sera al momento di coricarsi certo lasciando il mio consiglio sempre lasciare comunque la confezione nel frigo per evitare che si si disfaccia si distrugga la diciamo così la supposta l'azienda non diciamo il nome era ottima e faceva di quei prodotti fantastici proprio supposte rettali che funzionavano veramente benissimo allora quindi queste supposte mentre invagina lavarsi con che cosa farsi le lavande cioè le irrigazioni si no con che cosa il cedere anche nelle lavande vaginali deve esserci un equilibrio ci deve essere una guida ok per esempio lavande a base di acido borico in caso di candida possono essere utili un ottimo rimedio naturale che probabilmente le donne che ci ascoltano hanno a casa è l'olio di cocco perché l'acido caprico è un ottimo interferente nella riproduzione e nella diciamo replicazione delle ife che sono poi quelle che abbiamo visto che si allungano e creano la candida patologica quindi per esempio mettere dell'olio dell'olio di cocco come a livello vulvare che va assorbito è un ottimo quindi va massaggiato esatto va massaggiato ovuli invece di olio di cocco ci sono? esistono in commercio degli ovuli che contengono all'interno sia acido lattico sia oli essenziali io consiglio sempre una prima fase dove andiamo a come facciamo un po' nell'intestino quindi facciamo bonifica attraverso gli oli essenziali poi dobbiamo aiutare l'ecosistema vaginale a ricominciare a produrre acido lattico che non ricordiamoci che insieme ma il perossido di idrogeno che i lattobacilli producono spontaneamente sono funzionali per proteggere la vagina quindi diciamo gli schemi gli step sono bonifico con degli ovuli che puliscono poi vado ad aiutare a riprendere quella mucosa di cui parlavamo con acido lattico degli ovuli a base di questo o anche delle creme a base di questo esistono in commercio delle piccole candelette a base di acido lattico ci sono a base di gel questo dipende anche la donna che abbiamo perché ci sono donne che per queste candide recidivanti arrivano a avere delle disfunzioni pelviche a soffrire di volvodinia a soffrire di ipertono a soffrire di ipotono grave e non riuscire a inserire un ovulo noi lo diamo per scontato ma le donne che ci ascoltano qualcuna ci sarà che non riesce a farlo quindi possiamo lavorare esternamente e alla fine i lattobacilli perché se io prima non ho fatto una lattobacilli in vagina si possono mettere si possono mettere sia in vagina ma quello che colonizza meglio è attraverso la via orale che c'è una via retto perineo vulvare quindi assumerlo per via i crispactus di probiotici per la vagina il crispatus l'acidofilus ne abbiamo diciamo diversi che possiamo utilizzare sicuramente farlo dopo però che abbiamo lavorato perché se io ti metto il lattobacillo ma quel lattobacillo non trova un ambiente dove può replicarsi anche lì ritorniamo vedi prima la candida non si replica se io uscendo i probiotici ho un sacco di candida anche lì butto via i soldi è difficile che il probiotico possa fare il suo effetto possa pecchire possa vivere per poter passare a una metafora che sicuramente è chiara per tutti se noi tre decidessimo di comprare un terreno fuori Cremona per esempio per farci una piantagione di lenticchie e arrivassimo su questo terreno che è pieno di erbacce e le erbacce tolgono completamente spazio a qualunque tipo di lenticchia anche le lenticchie migliori del mondo semi comprati a un euro l'uno buttati in un campo di erbaccio e quanto di questi metteranno radici quanto di questi avranno abbastanza sole abbastanza terreno per poter crescere quindi la logica della bonifica è quella non di usare un tagliaerba come per esempio quel antibiotico prescritto in Italia che tu prescrivi per esempio per i diverticoli i primi sette giorni i primi dieci giorni del mese ogni mese perché se tu lo prescrivi ogni mese quell'antibiotico vuol dire che non è efficace il fatto di dover ripetere la terapia vuol dire che stai facendo un buco nell'acqua oppure che stai usando un tagliaerba la bonifica che intendiamo noi può essere con gli oli essenziali o comunque all'interno di un percorso integrato serve a strappare l'erbaccio è una volta strappate l'erbaccio anche lì non ci metti la lenticchia ma rivolta le zolle mettici un concime poi metti il seme ecco abbiamo siamo in fase finale mi piacerebbe proprio rispondere a qualche messaggio vi chiedo quindi risposta velocissima così accontentiamo qualcuno partirò un po' da entrambi perché questa signora di 38 anni dal 2014 soffre di continue infezioni vaginali dopo aver inserito la spirale tolta dopo pochi mesi è iniziato a soffrire di Gardnerella vaginalis nel 2017 prima gravidanza con la perdita di mia figlia per infezioni batteriche collo dell'utero accorciato rottura del sacco amniotico secondo la gravidanza stessa cosa ha fatto esami cure con probiotici una vera agonia ad oggi ho avuto un figlio con cerchiaggio preventivo continue cure antibiotiche tanta paura di perderle mi è stata diagnosticata una lieve disbiosi da un esame che ha fatto delle microbiote esame delle feci ad oggi nonostante tante spese di soldi tra piobrotici e diete alimentare non ho risolto il problema allora la spirale per chi non lo sa è un contraccettivo meccanico può essere anche medicata quindi sovrapposto all'aspetto ormonale che viene inserito dentro l'utero in un regime ambulatoriale dal ginecologo sicuramente può essere stato per questa donna la goccia che ha fatto traboccare il vaso e noi siamo sempre sinceri con le nostre donne diciamo che non è semplicissimo ripristinare quello che è l'ecosistema che poi dà benestere a lungo tempo e probabilmente ci vorrà un po' più di tempo per cosa le possiamo invece consigliare da un punto di vista medico dottore qualche cura qualche il fatto che usare l'antibiotico e poi il probiotico diciamo non è perfettamente in linea con la metafora che abbiamo utilizzato poco fa quindi dello strappare le erbacce e poi mettere i semi ci sono ovviamente degli ottimi probiotici ma qual è il terreno su cui li stiamo mettendo sono sicuramente capaci di creare delle colonie se il terreno è infiammato se è sconnesso se c'è un terremoto quindi anche lì se c'è una disbiosi che viene vista a un test del microbioma quindi da test genetico sicuramente le avranno dato degli consigli alimentari e dei probiotici io rimango dell'idea che se nell'intestino o nelle urine c'è un'infezione dai cerichiacoli che questa donna si sta portando avanti da tempo e sono stati usati tanti antibiotici perché è arrivata la gardenella e allora c'è sicuramente un'attenzione da portare in quella regione guardare l'intestino ma anche andare a capire quali sono a mio parere i patogeni che la stanno infestando e come farli fuori senza utilizzare gli antibiotici nel caso dell'urinocultura un tampone vaginale piuttosto che la coprocultura vengono letti con tanto di risultato in aromatogramma dai laboratori di analisi di cui parlavo poco fa anche i tamponi vaginali ad oggi abbiamo tamponi vaginali che ritrovano il microrganismo e testano antibiotico antimicotico se parliamo dei miceti e aromatogramma quindi anche per via vaginale può essere utilizzato quindi se abbiamo una candida vaginale faccio un tampone mi possono dire qual è l'olio essenziale che va a colpire fantastico questo non l'avevamo detto questo è molto interessante questo l'ho sottolineata ci sono anche tamponi auricolari tamponi della gola della farince tutto quello che è campionabile in un normale laboratorio di analisi perché poi la candida non l'abbiamo detto molto spesso ci sono anche nei sedini paranasali fino ad arrivare poi l'abbiamo detto anche al cavolare ecco perché sciogliere il muco è fondamentale quindi qua anche il tampone nel naso si va a vedere che tipo di candida c'è eventualmente diciamo che un laboratorio può testare è un liquido è una parte biologica anche le orecchie quindi abbiamo la candida potremmo avere altri tipi di infezioni immagina tutte le otiti ricorrenti che abbiamo o dalla gola o dall'esterno non c'è alternativa bene farò allora un tampone mi dirà poi ve lo diremo se volete mandarmi i messaggi vi diremo quali sono questi ambulatori allora buonasera vorrei chiedere perché ha l'incontinenza da infanzia aveva sei anni quando ho avuto i primi episodi anche quello notturno fino al mio primo parto anche se ho fatto le visite di tutti i medici che esistevano nessuno nessuno risultato e all'età di 30 anni ho tolto l'utero per un prolasso uterino adesso porto anche il presidio per l'incontinenza d'urgenza e ho 48 anni cara la visita ginecologica normale un esame dall'urologo con urodinamica tutto dentro nella norma grazie se mi risponde volevo anche nominare il no vabbè niente dice che non vuole nominare il nome per la prova privacy ok innanzitutto abbracciamo questa donna perché ha avuto un'esperienza impattante allora l'incontinenza non è mai normale a nessuna età neanche in gravidanza neanche dopo il parto ok arrivare a rimuovere l'utero vuol dire che strutturalmente questa donna ha l'intestino che giace proprio su tutto l'apparato urogenitale facciamo un appello a tutti operatori sanitari e donne dicendo che nel caso in cui si sospetta si hanno sintomi come emorroidi mancato svuotamento e quindi non riesco a fare bene la pipì sento che rimane così come per le feci dolore rapporti dolore mestruale vi sto dicendo i più comuni c'è bisogno di una valutazione del pavimento pelvico perché il pavimento pelvico è la donna e deve essere in salute gli esercizi di Kegel non vanno bene che cosa si può fare? una valutazione capire anche perché c'è un'integrazione poi per esempio con l'osteopatia con tutto quello che è la postura fondamentale dovremmo stare qui altre due ore siamo in chiusura valutazione secondo la medicina cinese l'utilizzo dei fiori di Bach classici australiani c'è un mondo attorno alla donna che a volte viene dimenticato noi dobbiamo ringraziare l'esistenza della donna perché sennò non esisteremo su questo pianeta non so questa donna da dove scrive però se può farcelo sapere io posso metterla in collegamento con noi abbiamo nella nostra equipe fisioterapisti ostetriche che si occupano di questo perché per lei è davvero importante prendersi cura del suo pavimento pelvico c'è una meta assistenziale parliamone da questo punto di vista per la salute femminile allora un minuto di tempo due cose una che giustamente una signora mi scrive ma se questo problema colpisce le donne l'uomo come lo curiamo perché anche l'uomo c'è anche lui la candida però non ha l'apparato genitale ci sarebbe da ricordare che l'utero ce l'abbiamo anche noi è un po' autrofizzato si chiama prostata e che spesso e volentieri i problemi della prostata sono proprio legati come diceva come diceva Giulia a un collasso a quello che viene definito l'entanglement dell'apparato dell'apparato viscerale cioè del colon sul bacino e quindi quando finisce sul bacino la pressione si scarica sul pavimento pelvico però la stessa cura che usa la donna può usarla anche l'uomo stesso protocollo a base di oli essenziali anche se sicuramente non possiamo fare applicazioni intravaginali nell'uomo il lavoro sull'intestino può essere fatto quindi a supposta può prendere anche l'uomo assolutamente l'apparato è lo stesso il problema è invece il trattamento intrauretrale perché entrare nell'uretra di un maschio è un pochettino più complicato rispetto a perché la candida entra anche nell'uretra non rimane solo sul pene perché potrebbe anche essere lì certo però arrivare lì e gli oli essenziali non arrivano lì? la somministrazione deve essere più assoluto complicata in questo caso perché come li somministri? e quindi nell'uomo la candida non gliela togliamo? no lavoriamo soprattutto nell'ambito dell'intestino ah ok quindi con alimentazione probiotici probiotici sempre dopo gli oli essenziali ah quindi si fanno anche nell'uomo gli oli essenziali? assolutamente sì perché la candida non è solo locale non avevo capito era tipo smarrita no no rimane così bene allora ci sono purtroppo non siamo riusciti a rispondere a tutti mi dispiace moltissimo osservate tante telefonate ci rinviti magari rendiamo si notte tutte le domande tra l'altro qualcuno molti si chiedono dove potersi fare visitare lei ovviamente dottore è palermitano viene spesso al nord viene a Milano viene a Torino se non erro noi abbiamo in questo momento però ci sono gli Avengers chi sono gli Avengers? abbiamo portato avanti c'è un gruppo di professionisti un po' io li definisco matti o sognatori che credono da un lato al fatto che si possa possesistere una rete assistenziale a livello nazionale costituita da specialisti di diverse estrazioni però che abbiano in comune la visione della persona in tutte le sue componenti quindi non del pezzettino che abbiano una mappa di lettura basata sulla letteratura del microbiota in questo momento considerando anche gli storici cioè i fondatori del gruppo degli Avengers stiamo parlando di circa 105-110 professionisti in Italia quelli appena entrati stanno facendo con me e con Livia fanno formazione in ambulatorio e affiancamento e stiamo aspettando pensiamo che sia ormai soltanto una questione di settimane di poter avere il sito pronto per poter presentare la mappa a livello nazionale e poi c'è una rete assistenziale magari non sono venger ma sono le ostetriche che la dottoressa Giulia Dari da anni forma con i suoi corsi di formazione noi ci siamo conosciuti così o sei anni fa sette anni fa a Roma e quindi in questo momento le visite congiunte per quanto riguarda me vengono fatte sia a Palermo che a Roma bene se è importante noi metteremo riferimenti siamo in chiusura se avete delle domande potete leggervi approfondire gli argomenti che abbiamo trattato in trasmissione con le ricette di Ascolta la tua pancia per un intestino felice e Ascolta la tua pancia perché tutte le malattie nascono nel colon intestino prego irritabile io vi ringrazio ringrazio anche la Minded Edizioni per aver editato questi due libri ringrazio anche la dottoressa Livia Emma che è qua con noi ha seguito la prima parte di trasmissione vi ricordo che noi ci rivediamo il mese prossimo abbiamo ancora la diretta eh certo abbiamo l'appuntamento fino a maggio ti ho prenotato se puoi anche a giugno luglio agosto ti aspetto anche tutta estate perché abbiamo veramente bisogno di buona informazione adesso io vi devo salutare vi ringrazio vi ricordo che potete rivedere la nostra puntata sul sito internet dove trovate anche riferimenti degli ospiti che ci è venuto a trovare degli ospiti e potete rivedere la puntata integrale grazie ancora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti visione offerta da Erboplanet integrazione naturale di alta qualità porta a casa tua i benefici della Ioniterapia da quando ho scoperto la Ioniterapia la mia vita è cambiata il benessere parte dalle cellule Ioniflex energia vitale grazie all'invio di ioni salutari direttamente alle cellule Ioniflex energia vitale per grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti